E eccoci tra indoors. Stasera non siamo soli soletti, siamo ben accompagnati con due persone che sicuramente conoscerete forse anche da più tempo di noi. E questo perché Giovanni? Perché l'altra sera abbiamo messo qui da solo con una stuola di donne e quindi oggi ha deciso di invertire ruoli e di fare insomma una... Beata tra gli uomini facciamo stasera. Esatto, una crew di tutto rispetto tra l'altro, no? Allora, quindi non vi facciamo aspettare oltre, no? No, no, no. Andiamo subito sparati a bomba, a bombissima direi che scappitano con noi due le quinte perché stasera interagiremo molto molto con voi perché... Direi di iniziare con... di lasciare diciamo l'ultimo ingresso alla star quello che si sta diciamo preparando. E quindi... Eccoci qua. Buonasera a Palle Uomo che conoscevi te sicuramente. Benvenuto. Buonasera, buonasera. Grazie per l'invito. È un onore averti qui. Perché tu internauta, che lo vedo ovunque piacevolmente. Ho definito giovane internauta. Esatto. Gli è piaciuta tanto questa cosa. E poi abbiamo qui il nostro... Super, super... Ciao a tutti! Come va? Tutto bene? Ho pensato... È la prima live per il crime che faccio e quindi ho pensato di avere un outfit adeguato nonché anche naturalmente il beveraggio. Io adesso lo nascondo nelle bottiglie così... Io uso solo una tazza in realtà. eccoci. No, no, no. Poi non è da professionisti perché si riscalda il vino e quindi è orrendo. Non so come si faccia a me la temperatura ambiente. Ma è l'accappatoio che mi lascia. No, si usa. Ho studiato tutti i principali criminologi aspiranti su Twitch. Con i capelli rossi, qualche problema psicologico e tendenzialmente i giornalisti, i conduttrici, tutti in una persona. Ecco. Ok. Non si fa mancare nulla e non si farà mancare nulla, voglio dire. Siamo sempre più carichi. Torniamo semiserie. Sì, anche perché francamente non è proprio da me l'accappatoio. Sì, arriva la denunzia per bullismo. Sì, soprattutto la denunzia. Siamo pronti. ne contiamo più. Dobbiamo metterci per vedere chi ne riceve di più, no? Che poi però è una battaglia che non possiamo fare perché sono tutte uguali, no? Ci mettono tutti in mezzo e le mandano un po' ovunque. Quindi insomma collezioniamo tutti le stesse più o meno. Tranne Palle Uomo vogliamo tenerti lontano da questa... Speriamo che non prendi anche tu una denunzia. A me le promettono, poi non esistono. Addirittura qualcuno diceva che mi sarei dovuto vendere degli organi per pagare le conseguenze delle mie azioni. Ma ci arriviamo dopo. Eh sì. Tutti gli organi. Sì, sì, ci arriviamo dopo. E questo è il motivo per cui oggi abbiamo valuto con noi anche Palle Uomo perché sappiamo che noi ormai da diverso tempo ci stiamo occupando di truffatori di M Team per citare anche la pagina e il gruppo ma non sono i soli ecco. Anzi prima di di andare in onda stavamo eh allegramente eh di discutendo di questo nel senso che l'avvento no? Della divulgazione sui social su tutti i social ha diciamo aperto le porte a una vagonata di persone che eh non hanno proprio le buone intenzioni no? Quindi un po' li chiamate i fuffaguro per citarmi diciamo nel per calarmi nel nel gergo diciamo moderno eh però insomma la matrice è sempre la stessa no? Sono fondamentalmente persone che si improvvisano e vendono fumo no? Ah neanche quello vendono elettroni segnali elettrici perché alla fine usano un sacco i social il che mi dispiace perché alla fine chiunque usi internet o mandi email e robe di questo tipo comunque sta consumando sta inquinando quindi purtroppo non è neanche a impatto zero però no neanche neanche l'aria cioè non è l'aria di Napoli no che stanno vendendo tantissimo dopo lo scudetto. Vendono praticamente. E tra l'altro esatto e tra l'altro volevo dire che vi ho seguito su WideAlf sul canale di WideAlf e ho capito che mi volete eh coinvolgere l'avvocato Catani in queste diciamo crociate della legalità e quindi insomma. Allora nessuno nessuno vuole. Noi sottoponiamo dei casi poi sta alla nostra abilità e alla curiosità dell'avvocato interessarsi o meno però se succede diciamo che non mi dispiace. No sì no ma ormai penso che avvocato che ci dici ci ha preso gusto? Io sì sicuramente solo che il problema di solito è con i filtri di YouTube. Quando si citano troppe volte la parola truffe o altro di solito i sensori del supremo algoritmo si rizzano e tendono a penalizzarti un po'. Ho visto che là si parla di fuffe va bene sì sono ancora silenzioso perché mi carico poi faccio anche la premessa serie no perché abbiamo un attimino una direzione vi chiederete come mai stasera abbia fatto una diretta del genere forse mi state chiedendo ma dove vogliono andare a parare tutte e quattro questa sera ve lo spiego proprio in termini semplici. Nell'ultima diretta mega diretta che abbiamo fatto in presenza anche di Alicia Griffanti conosciuta ai più come la diva del tubo e la dottoressa Emanuela Papa diciamo che siamo andati a toccare un tasso molto particolare che è la responsabilità dei creators no diciamo dei youtubers twitchers come vogliamo chiamarle quindi persone seguite da numerosissimi numerosissimi ragazzi quindi anche di una fascia potenzialmente fragile no e ci hanno raccontato dinamiche che noi potenzialmente non vedevamo perché conoscete qualcuno di voi conosce me e Monica siamo più o meno da un annetto no sui canali tipo dove ci seguite e che cosa accade non è che abbiamo tantissimo riscontro quindi stasera ci affidiamo a chi invece il web da quel punto di vista veramente lo naviga da un bel seguito sappiamo il perché se siete qui li conoscete fondamentalmente e però ci siamo proprio chiesti ma come nasce il tutto secondo me lo chiedo a voi quando non so nelle chat varie community interagiscono con voi che cosa è che percepite secondo voi che cosa è che spinge quelle persone poi a a rendervi a rendervi loro idoli fondamentalmente io darei priorità all'avvocato anche solo per una questione di rispetto no beh assolutamente ragazzi io sono uno di voi ma allora sostanzialmente per quanto mi riguarda bene o male la mia community è relativamente particolare perché non mi occupo al pari peraltro anche di quella di crime laws non mi occupo esattamente di argomenti particolarmente popolari mi occupo di situazioni scomode e tutto nasce da una banale osservazione al giorno d'oggi sui social viene meno il buon senso tutto quello che cerco di fare io è semplicemente ristabilirne un po cercare di far riflettere la gente ma cose semplicissime poi peraltro con il passare del tempo vuoi un pochino perché il supremo algoritmo dopo la terza volta che citi la parola rapina ti penalizza piuttosto che truffa furto eccetera vuoi un pochino perché comunque una cosa tira l'altra la mia community è andata verso la geopolitica in particolar modo il conflitto ucraino dove la fuffa è particolarmente ampia per così dire perché comunque non c'è bisogno che faccia riferimento alla fabbrica dei troll la diffusione di notizie false e di fuffa guru anche nell'ambito del conflitto ucraino russo e amplissima per cui mi sono sono arrivato lì ho una buona community che mi sostiene bene o male abbiamo tutti in comune il desiderio di libertà e quant'altro dopo tre anni che ci si frequenta ci si vede anche perché tecnicamente su youtube molti di noi così come su twitch occupano militarmente degli spazi quando la gente è abituata a vederci a frequentarci per mezz'ora un'ora al giorno chiaramente si affeziona e questo meccanismo credo che lo possiamo vedere anche in altri casi in cui trovi gli streamer che fanno quattro cinque ore al giorno è chiaro che subentra un meccanismo psicologico per cui tutti gli iscritti o gli abbonati pensano vengono indotti a credere di avere un rapporto sociale con lo streamer e alla fine scatta quel tipo di meccanismo che hai nei confronti degli amici anche se in realtà si tratta di un'amicizia molto sui generis e soltanto entro certi limiti ecco il problema è che una volta che hai la fiducia della gente devi anche saperla gestire credo sia tutto e non tutti la gestiscono in maniera adeguata frasi chiave voglio dire perché proprio l'intento di questa sera perché non ci nascondiamo dietro un dito alla fine andremo a parlare nuovamente su tutta la storia di m team e francesca bugamelli conosciuta su internet ora come bugalalla prima magari in qualche altro modo e palle uomo è uno streamer è uno streamer si presenta e io lo vedo un po ovunque cioè mi trovo su vari canali di twitch dico ma quanti canali a in realtà no vedo che che è molto amato ospitato si fa seguire da tantissime persone ci racconti un po come è iniziata la tua avventura visto che ti sto seguendo da poco quindi diciamo sei apparso nelle ultime settimane mi ha incuriosito allora innanzitutto perché sorridevo al giovane internauta perché effettivamente da che esiste la 56k in italia io navigavo su internet no quindi ho visto praticamente ho visto praticamente il tutto svilupparsi e sono sempre stato abbastanza attivo no quindi ho conosciuto anche di persona i primi troll italiani no perché abbiamo anche una scuola di troll ed è qualcosa di bellissimo che poi ha preso una una piega un po diversa su twitch come mi sono avvicinato da tra virgolette creator anche perché non mi giudico tale banalmente come tanti altri durante la pandemia insomma avevo tanto tempo per stare triste solo e depresso a casa di solito gioco al computer ho detto vabbè già che ho l'account su twitch perché non streamare magari passa qualcuno a chiacchierò e da quel punto di vista io posso finalmente dire di non aver mai voluto intraprendere la strada di quello che lo fa di mestiere fortunatamente le mie qualifiche sono altre e le mie ambizioni sono altre e quindi era abbastanza sui generis nel senso che non ho mai puntato a iscrivetevi fatemi le sub donate roba di questo tipo anzi chi frequenta il canale sa che piuttosto dico ma ma non tabbonare cioè vai a dare sti quattro euro a qualcun altro però che succede succede che da utente mi interfaccio con diversi canali principalmente canali di musica inizialmente perché sono appassionato e da lì sai si sviluppano delle simpatie tra persone in chat quindi con alcuni ho anche cominciato a dare una mano no sai proprio a livello di moderazione o quando scattavano i dispettucci del web twitch ne ha tantissimi chi diciamo non è nuovo della piattaforma ricorderà attacchi bot ride molesti e tutta una serie di cose spiacevoli quindi lì ho messo un po a disposizione le mie competenze tra virgolette investigative che poi mi fa ridere anche la parola perché banalmente conosco lo strumento quello che non conosco me lo vado a cercare e faccio break and reverse engineering per sgamare quello che di torbido c'è sulla piattaforma e provare a metterci un rimedio e quando poi si sono presentate situazioni un po più serie sia di diciamo pseudo truffe chiamiamole così perché ad esempio uno che fa finta di avere tanti abbonamenti di fatto non sta truffando nessuno magari sta ingannando un ipotetico sponsor sta ingannando un po il pubblico perché il pubblico vede che quel canale ha dico numeri a caso 56.000 iscritti 20.000 sub dice allora questo è un bel canale lo seguirò perché c'è una grande tendenza ad andare a seguire il canale che ha dei numeri già alti e dall'altro lato lo sponsor e questo è un problema a livello mondiale si basa su dei numeri che sono delle medie e spesso e volentieri non vanno a verificare se quelle medie siano effettivamente reali ok però di per sé un crimine tra virgolette bianco non ci sono vittime se non che esistono anche casi di persone che usano il mezzo per propinare altro e questo non è solo su direttamente su su twitch non è solo su youtube non è solo sulle piattaforme di live streaming l'avete visti tutti i profili magari su prima facebook ora magari instagram e tiktok profili di persone molto grandi molto seguite a livello numerico che propinano delle robe e tu dici ok magari lo fanno perché sono seriamente convinti della sponsorship 9 su 10 no 9 su 10 no ti rimandano a dei gruppi che o si basano su piccoli escamotage per farti iscrivere a siti di gioco d'azzardo su cui poi lucrano col link di affiliazione o banalmente vanno a fare le sponsor ad altri canali che invece nascono come venditori di nulla quindi gente che ti pubblicizza un corso per monetizzare in maniera automatica youtube investi 20 euro e ne farai 3.000 al mese quando poi così nel tempo libero contatti la persona che offre questo corso e scopri che invece di 20 euro sono mille e scopri che una persona che ha 19 anni con meno di tre anni di esperienza millantata nel campo non sa soltanto nulla di youtube ed è evidente da quello che dice da come lo dice e anche giocando a simulare no la persona in difficoltà economica io forse sono un bravo attore soprattutto nello scrivere in chat mi sono finto non lo so un padre ludopatico a cui figli hanno levato la carta di credito che però vuole aggirare questo per investire gli ultimi 500 euro il conto in banca e queste persone non fanno una piega e così si no ora lo troviamo un modo ti aiutiamo noi non ti preoccupare ecco questa è la parte un po più pericolosa tra virgolette anche lì ci sono tanti livelli c'è proprio lo scam base che stile l'email o c'è un principe nigeriano in fuga che ha bisogno del tuo aiuto per per assicurare di non perdere i soldi e te ne vuole regalare un po te lo aiuti e c'è chi invece riesce a prendere in giro anche persone che sono con un alto livello di educazione sono professionisti abbienti capaci che però colti anche da un senso di sicurezza che viene trasmesso appunto da quello che queste persone fanno vedere pubblicamente sui loro profili nelle loro live e ci cascano andiamo voi mi dovete fermare perché io tendo essere lo ma è molto interessante che dici hai fatto una breve sintesi e di quello che sono i pericoli che vanno da appunto da dal web inteso come chatto altro ma anche alle mille io mi ricordo qualche anno fa e parecchi anni fa tramite degli annunci di lavoro qualcuno trovò il mio numero di di telefono la mia mail e mi mi scrisse una mail in cui cercavano una babysitter ai tempi e con una storia abbastanza articolata con un italiano un po strano ma che comunque era abbastanza diciamo comprensibile e di questa gente che doveva venire in vacanza e parliamo probabilmente credo dieci anni fa e che aveva bisogno di una babysitter io effettivamente avevo lasciato i miei numeri di cellulare in giro tra gli annunci e non mi sembrava tanto strano anzi mi contato tramite mail e poi alla fine dopo avermi intortato farmi un sacco di domande o altro alle quali io cominciai a rispondere un po così e mi disse che mi avrebbe mandato l'anticipo e mi arrivò un assegno a casa molto più alto del solito e mi disse che aveva sbagliato e mi chiedeva appunto di cambiare l'assegno e rimandare indietro il surplus che dopo che tu parli magari una settimana dieci giorni con sta persona dici vabbè magari ha sbagliato no però avendo comunque sempre avuto il pallino no per il diritto ho subito pensato al fatto che potevo incorrere in un diciamo reato di riciclaggio e e quindi ho peggio essere truffata e quindi piai questo assegno e andai all'epoca la polizia postale quando ancora gli uffici della polizia postale erano diciamo accessibili a alle persone diciamo normali perché ormai molti uffici della polizia postale in italia si occupano per lo più di reati come la quello lì brutto sui bambini non vorrei farmi bannare e comunque gravi faccio chiarezza sul regolamento tu puoi dire il nome del reato puoi parlare il problema ovviamente nel senso anche se dovesse arrivare una una segnalazione farlocca è chiaro il contesto in cui ne stiamo parlando quindi ok quindi questo volevo dire insomma ormai gli uffici della polizia postale in quasi tutta italia si occupano più soprattutto quelli grandi io sto a palermo si occupano ormai di reati molto più gravi e quindi per le denunce di questo genere in genere ti mandano diciamo da delle stacce di polizia normale dai carabinieri un tempo dieci anni fa in genere erano un po più liberi da questo e quindi insomma e io mi ricordo che andai con questo assegno e se lo presero mi dissero no potresti e loro mi dissero appunto che potevo incorrere nella doppia cosa cioè io ero convinta che magari i soldi poi non meritassero io glieli mandavo indietro e rimanevo truffata no e mi disse invece che c'era pure l'opportunità che i soldi io li ricevessi sul serio perché e loro in verità reciclavano questi questi assegni e insomma da lì e le cose sono cambiate nel senso che sono diventate molto più articolate e anche su facebook non so se vedete molto spesso ci sono sti tizi che vengono a commentare che ti dicono mi sembri molto interessante vorrei chiederti una mano e insomma e l'errore che si può fare è quello di pensare che siamo esenti no d'assero scusami francesca perché nessuno esente dalle truppe nessuno può pensare di non cadere mai nel treno di qualcuno del fidarti della persona sbagliata e di rimetterci dei soldi del tempo e quant'altro io ho una domanda proprio diretta perché non ci ho fatto mai caso no sta cosa ma si possono vendere servizi prodotti attraverso i vari canali citati cioè posso dire comprati questo fai quello cioè potenzialmente io posso mettermi qui a fare non le farò le carte e dico poi dopo quando ti ho fatto le carte mi devi accreditare che ne so 20 euro per la consulenza ci posso fare il cartomante su twitch youtube mi verrebbe bene con tutti gli allocchi che ci sono in giro negli ultimi tempi che bevono un po di tutto cioè è possibile fare una cosa del genere allora per quanto riguarda youtube sinceramente non ho studiato le policy perché io punto a fare qualcosina di diverso certamente ti appioppano il negozio online in accoppiata e spesso e volentieri gli iscritti ti chiedono del merchandising per cui alla fine qualcosina crei e lo pubblicizzi io suggerisco sempre di non acquistarlo perché è caro come il fuoco ed è anche contrario all'ambiente al di là del fatto che quanto costano le tazze 15 euro 20 euro forse addirittura vengono dall'america e un inquini quando la metà basta compratele fatele fare su misura in italia in europa a parte questo non mi risulta che ci siano politiche contrarie a questo tipo di prestazioni però sono organizzate come spettacolo in teoria ti fai pagare in anticipo esistono degli strumenti che servono per darti le mance come per esempio super grazie su youtube su twitch ce n'è un altro equivalente credo si paghi in bit ma su questo è molto più esperto ovviamente in realtà si in realtà si può anche donare cash tra virgolette attraverso paypal quindi diciamo una donazione diciamo quindi in teoria appena ricevi la donazione puoi svolgere una particolare prestazione tempo fa non è esattamente la stessa cosa ma tempo fa andava di moda l'irl facevi una donazione donavi dei bis e la persona in irl faceva cose vedeva gente non so se sia meglio o peggio dei tarocchi però tecnicamente teoricamente credo sia possibile a meno che il tempo al di là e palle uomo l'esperto io non vado molto d'accordo devo dire che ad esempio io su twitch una carta anzi non è solo cartovante ora oro ora colomanzia l'ho conosciuta lei in realtà che io sappia non ha mai chiesto pagamenti però di sicuro qualcuno che magari avrà fatto delle donazioni per interagire ci sarà stato di per sé se non viene presentato proprio a livello di mi viene in mente gennaro dauria no forse giovanni ricordo comunque personaggio famosissimo in tutto però perché anche quello in realtà si poteva fare e si può fare in televisione no sappiamo tutti che ovviamente nessuno può tramite poteri mistici prevedere il futuro o parlare con i defunti e robe di questo tipo però se viene dato come un format dove nessuno costringe no la gente a chiamare la linea a pagamento a donare le sub o donare 100 bit o quello che per avere uno che ti intrattiene perché a livello proprio di contenuto uno che dice ok se mi doni 10 sub gioco al tuo gioco preferito oppure uno che dice se mi doni 10 sub faccio 10 flessioni o ti leggo le carte è praticamente la stessa cosa il problema si crea se qualcuno mette in atto quello che è proprio uno scam quindi se io provo a usare twitch per mettere in atto uno schema ponzi dove convinco la gente a investire a far investire altre persone allora già lì se mi scoprono secondo i termini e le condizioni di uso della piattaforma l'account salta quindi dicendolo proprio fuori dai denti se io mi chiamassi bugalalla e con diciamo il mio sponsorizzare m team dove che è un truffatore perché uno solo e persone visto che credono a questa ragazza no si servono delle truffe perché non li chiamerei servizi di m team e questo è dimostrabile alla lunga si può parlare di truffa attraverso questi canali quindi c'è rischio di chiuderli per questo c'è per questo motivo lì diventa un po più difficile dimostrarlo secondo me nel senso che allora va discussa una seconda cosa in teoria scusatemi però voglio metterti in difficoltà io sto parlando volevo 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 ringraziare white half che ci ha fatto un ride che qui con noi grazie e benvenuto ci ha venuto a trovare dopo grazie e quindi insomma volevo prego palle uomo ti odio ho interrotto per sempre vuoi darmi interrompe dovevamo ringraziarlo benvenuto dai rispondi alla domanda benvenuti benvenuti ai riders la questione è che in teoria quando si porta una questo vale anche per youtube ma o instagram quando sponsorizzi un prodotto un servizio in teoria lo dovresti dire no quindi si può discutere se la pubblicità fatta al servizio in questo caso il servizio m team è diretta non diretta se chi la fa è stato pagato o non è stato pagato per farlo ci sono live in cui lei diceva contattateci compilate il modulo il format se avete subito questi reati m team vi aiuta se siete vittime di revenge porn compilate il modulo se avete subito altri reati compilate il modulo se siete stati perseguitati da burzone compilate il modulo e scrivete le denunce insieme a noi cioè potenzialmente questo è accaduto molto palesemente molto in maniera diretta e ci sono ancora in qualche parte del mondo in chiaro questi video però ripeto la va visto perché se io sto facendo la live dal mio negozio di fumetti no indirettamente sto facendo pubblicità al mio negozio di fumetti ma è la mia attività quindi se l'avvocato catania che è appassionato del mondo della dc vede che io ho un particolare volumetto alle mie spalle mi chiede a ma dove posso reperirlo io dico passa da me ok quindi in quel caso credo ripeto non ne posso essere certo che non devo specificare che sto facendo pubblicità alla mia attività perché è la mia attività non sto offrendo diciamo una sponsorizzazione a una terza persona o una terza entità che mi ha pagato appositamente per fare quello ora è molto di recente in realtà oltre alla policy del titolo della live dove devi specificare se stai promuovendo dei prodotti o dei servizi solo di recente hanno impostato come già su youtube da diversi anni il segnalino che questa live un po come vediamo in televisione questa trasmissione con contiene messaggi promozionali ok ora esiste se i clienti che ci si accaparra attraverso i social cadono in un sistema viene qualificato come truffa di sicuro la cosa dovrebbe interessare la piattaforma la piattaforma qualunque essa sia quindi stream stream piattaforme di stream così come gli altri social non hanno alcuni interessi e su questo vi posso dare un dato storico meta ora e facebook prima facebook a un certo punto pullulava di maghi delle scommesse scommesse sportive ok che avevano le loro pagine le loro pagine erano ovviamente ricolme dei loro link di affiliazione a un certo punto facebook ha detto a noi questa cosa non piace perché non piace agli sponsor quindi hanno iniziato a vietare lì c'è stata la grande migrazione dei geni delle scommesse su altri social quando poi anche sui altri social è successo lo stesso hanno trovato altri scamotage quando poi entrato in vigore il cosiddetto decreto dignità nel 2019 se non erro a fine 2018 hanno trovato ancora altri scamotage nel senso che continuano a farlo continuano a fare esattamente la stessa cosa però meno in vista e ovviamente la cosa no non va bene se se ne accorgono ti puniscono ma attenzione esistono dei modi non non ne conosco almeno su twitch o youtube però su meta quindi il nuovo facebook è diventato un meme il vedere contenuti sponsorizzati quindi la gente ha pagato per avere quel contenuto in evidenza che sono assolutamente contrari a qualunque regolamento quindi porno esplicito come mirco come mirco zeppellini che sponsorizzai oddio no io parlo proprio a livello dell'immagine voi immaginate quelle quelle scene ma mirco non lo vedi mai oddio sotto quelle spoglie non lo so ho visto con altri nomi meno male magari abbiamo cercato male ragazzi proviamo zeppe porno magari asce qualcosina in giro che ne so ce lo troviamo no comunque se posso dire una cosa mi ricollego un po al discorso che faceva poco fa a palle uomo no e per me che ho iniziato a navigare col 56k no e che sono mi sono buttata nel web quando non c'era nessun tipo di regolamentazione no oggi le procure sono intasate dalle denunce fatte per la diffamazione sul web cioè se prima tu vent'anni fa andavi a denunciare per qualcosa che ti era successo in qualche chat dall'altra parte ti guardavano come a dire cazzi tuoi che vai sul web cioè la sintesi era quello no non sapevano neanche dove metterci le mani oggi abbiamo fatto diversi passi avanti e credo e il mestiere dell'avvocato credo che sia un mestiere bellissimo proprio perché il diritto alla fine lo lo scrivi anche tu e credo che a poco a poco no con tutte le varie denunce e con tutte le nuove fattispecie di reato che si vanno diciamo susseguendo nel tempo a poco a poco secondo me si riusciranno anche ad arginare determinati aspetti soprattutto inerenti a queste grandi diciamo truffe e in questo momento non sto pensando nei team che insomma sul web si è dovuto avvicinare per necessità ma penso appunto non so mi viene uno tra tutti quel il caso che abbiamo conosciuto tutti quello di mirko scarcella che poi ho capito che su di lui si sono ispirati tantissimi altri soggetti nel web no ce ne sono di molto simili ecco ma sono simili a vagonate e la cosa divertente è che si denunciano tra di loro ma non non querele dicono lui vende fuffa lui è falso lui così lui colatti dimostro che perché ovviamente ognuno di loro vuole dire io sono autentico le altre sono mere copie sono dei gente che millanta e sono bravissimi perché alla fine come dico sempre questa categoria di persone no che usa il web in un certo modo per insomma a crescere il conto in banca o il proprio ego quello che sia non lo so non lo so qual è probabilmente più la prima ma sembrano avere tutti un manualetto sia nelle metodologie messe in atto ma soprattutto nel momento in cui vengono sgamate hanno sembra sembra di avere un sembra non avere una lista di frasi da dire contro accuse argomentazioni fantoccio dribbling totali degli argomenti per poi alla fine 9 su 10 scomparire dal web o comunque ritrovarsi con un seguito azzerato che quello che ci sia auspica e raramente di questi ho visto gente punita a livello legale o comunque in maniera plateale dice ok è in carcere lo sai o c'è stato un maxi processo su tutta sta gente no però se vedi che scompaiono probabilmente gli ha detto male e questo da un punto di vista diciamo legale quindi delle truffe invece c'è un altro aspetto di cui parlavamo l'altra sera che si è creato un caos e oggi diciamo l'avvocato catania che sostengono si stia annoiando forse è il bicchiere di vino e si è che è quello della responsabilità no perché quella morale più che altro perché queste piattaforme soprattutto twitch tra tutte è seguita da tantissimi ragazzini e avere diciamo un enorme potere un enorme seguito equivale anche ad avere un enorme potere su tantissimi soggetti e benché probabilmente molti atteggiamenti non possono essere penalmente perseguibili è giusto che chi ha una folta diciamo un folto pubblico dovrebbe rendersi conto che quello che dice per molti soggetti è Vangelo e l'altra volta ne parlavamo per il discorso delle varie diffamazioni che si sono susseguite anche danni della dottoressa Bruzzone e nostre e ci sono ancora ma non è solo quello il punto no volendo un po' uscire dall'argomento solito dovrebbero rendersi appunto conto che dire delle cose equivale a prendersi delle responsabilità e e qui poi c'è la palla all'avvocato catania io non posso dimenticare che benché sembra a volte che il web sia una landa desolata dove ognuno può fare quello che vuole quando c'è stata in gioco la salute quindi nell'era del covid c'è stata diciamo una rappresaglia contro chi era contrario ai vaccini che veramente quasi da un sistema dittatoriale che io diciamo in qualche modo condivido però effettivamente ovviamente i mezzi ci sono no avvocato sì è un periodo che ricordo con affetto perché nonostante facessi debunking l'algoritmo mi colpiva già allora in pratica io facevo dei video di debunking sulle leggende metropolitane sui complotti del covid all'epoca andava molto di moda montanari tra gli altri ma l'algoritmo così come oggi crede che io appoggi prigosi nelle organizzazioni criminali crede tuttora che credeva che io appoggiassi gli antivaccinisti a parte questo in effetti sì il problema di queste piattaforme però è che sostanzialmente sono delle entità economiche delle imprese e seguono un'organizzazione che volta a ottenere profitto prima ancora che controllo delle informazioni motivo per cui non sempre le segnalazioni vengono colte fanno affidamento sugli algoritmi youtube pubblica letteralmente milioni di video al giorno se non vado errato è impossibile controllare in tempo quasi reale un flusso simile di dati e di informazioni e youtube peraltro fa pesantissimo affidamento sugli algoritmi sugli automatismi la possibilità che un operatore umano controlli effettivamente il tuo operato è relativamente bassa normalmente ci sono delle parole chiave che vengono monitorate quando ne usi troppe il sistema interviene ma questo presenta più problemi che opportunità per quanto mi riguarda il sistema è completamente privo per esempio di senso dell'umorismo per cui noi che facciamo fact checking o anche satira siamo quelli che veniamo colpiti per prima anche chi fa informazioni in effetti viceversa chi diffonde le informazioni false si comporta in modo irresponsabile ha più spazio di manovra e questo si può vedere anche semplicemente con i contenuti io come ho scoperto sulla mia pelle prendendo i contenuti che presento io e quelli di altri due competitor ma di parte opposta quale per esempio può essere un professor Orsini piuttosto che un Lilin che si occupano sostanzialmente di diffondere fake news di origine russa hanno molti meno vincoli di me il mio canale viene colpito il loro no e continuano tranquillamente per cui le possibilità che ci siano di avere un controllo di questo tipo è molto basso e queste piattaforme difficilmente rispondono c'è stato qualcuno che ha provato a portarle in tribunale ma per quanto riguarda in Italia hanno sempre perso io ricordo due casi uno che è quello di Bio Blue che effettivamente era un canale complottista che è stato bloccato è stato fatto ricorso e Bio Blue ha perso perché sostanzialmente mancava tra le altre cose la competenza territoriale e poi nel momento in cui facciamo un accordo con YouTube piuttosto che con Twitch non siamo consumatori non abbiamo sostanzialmente diritti per cui decide la piattaforma cosa fare l'impresa e ti tocca bene o male subire secondo caso credo sia quello di Lombardi che ha un modo di vedere le cose diversissimo dal mio ma anche lui ha provato a impugnare alcune demonetizzazioni nel suo caso è un vero e proprio lavoro YouTube ha creato anche una piccola società ma anche lì non ha avuto il minimo spazio di manovra e nel suo caso paradossalmente è stato colpito per alcuni contenuti che pubblicati su altri canali appaiono perfettamente legittimi nel suo caso in particolare c'era un video relativo al suicidio di quel banchiere famoso a Firenze con alcuni frame lui dice io ho fatto un documentario di tre ore mi è stato bloccato per questi dieci secondi me lo ritrovo tra l'altro su altri tredici canali su altri otto che ho segnalato è stato bloccato che sono tutti di piccoli youtuber quelli invece delle grandi tv quello stesso video ce l'hanno lì senza conseguenze per cui in definitiva il problema non è tanto e soltanto giuridico quanto proprio a livello di politica aziendale del fatto che noi YouTube non esiste un vero e proprio controllo perlomeno noi non siamo in grado di esercitarlo possiamo però muoverci sotto certi aspetti per esempio possiamo chiedere massivamente che vengano presi dei provvedimenti se qualcuno mantiene dei comportamenti impropri nei confronti di minori o del suo pubblico pubblicizzando servizi inesistenti o vere e proprie truffe può essere segnalato in massa qualche volta funziona però ripeto è una questione c'è stato ad esempio noi abbiamo segnalato diversi contenuti alla Bugamelli molto diffamatori il vino trovevi sul serio allora non è vino io sono tendenzialmente astemio sembra ma non lo è è ginger o qualcosa di simile dicevo no? noi abbiamo segnalato diversi contenuti e YouTube ci ha dato ragione ha detto sì questi contenuti sono effettivamente di formazione nel tuo paese io li oscuro nel tuo paese ma li lascio online senza prendere provvedimenti riguardo alla streamer al che io insomma mi sono anche un po' innervosita con YouTube perché non è che io posso passare la mia vita a segnalare i video di Bugalalla ci avrei anche da fare ed effettivamente insomma ho fatto un'operazione molto semplice ho detto da questo momento in poi sapete che c'è io vi ho avvisato vi ho dato copia delle deduce e quant'altro qualora lei dovesse continuare risponderete pure voi e non è tanto peregrina come ipotesi perché ad esempio proprio nel 2022 c'è stata una sentenza chiamata storica in Australia che un deputato credo deputato o comunque diciamo un politico in generale se qualcuno la cerca mi può correggere perché non me la sono cercata prima di venire in live ha vinto la causa contro Google perché si trovava fondamentalmente nella stessa situazione riceveva dei continui attacchi diffamatori verso la sua persona e YouTube nonostante fosse a conoscenza di questa situazione non si è adoperata per fermare diciamo quell'account e ha vinto diciamo questo risarcimento che è un è stata riportata anche in Europa come una sentenza diciamo storica perché cioè non è che si è successa in Australia e io credo che è un po' come fanno anche le altre aziende se tu commercializzi un prodotto in Italia potremmo farlo perché YouTube tecnicamente quando sussiste un reato sussiste anche una responsabilità civile del terzo in questo caso perché è pubblicato lì quindi in teoria se dovesse mai arrivare Bugamelli alla sbarra anzi quando arriverà Bugamelli alla sbarra molto in teoria può incitare contemporaneamente anche YouTube che ha ospitato adesso in questo caso non dovremmo avere particolari problemi però anche qui per esempio tutto è molto stocastico il controllo di YouTube sai perfettamente perché le hai curate tu sono state avanzate delle richieste che hai sempre avanzato tu quindi sei la stessa persona hai le stesse competenze da una volta all'altra su diffamazioni molto simili alcune sono state prese in considerazione altre no un'altra no per la precisione eppure il contenuto è identico poi hai ripresentato la domanda per conto terzi perché in quella live diffamava di tutto e di più ed è stata rimossa anche quella anche quel video però hai presentato quindi evidentemente la variabile non sei tu non è il contenuto ma chi quel contenuto lo controlla dall'altra parte cioè dal lato di YouTube se c'è un chi sì perché se c'è un chi attenzione ma sai io non ho fatto la segnalazione col modulo io ho fatto semplicemente una mail allo studio all'account dei legali spiegando la situazione ed effettivamente quando si sono ripresentati dei nuovi diciamo video ho ripreso la risposta e ho riscritto alle stesse con la stessa non aprendo una nuova segnalazione quindi tenendo in essere quella lì è quello che mi fa impazzire perché se tu butti giù dal nostro paese una decina di video che riconosci essere diffamatori cioè ti prendi la briga di ottenere questa persona a continuare a fare questa cosa senza intervenire cioè io nell'ultima mail l'ho sbottato e ho detto ma non è che io ogni giorno mi posso mettere qui a guardare il video a segnalarmi minuto per minuto cioè ma scherziamo e loro quando rispondo così mi rispondono con una mail automatica e ho detto vabbè alla fine ho detto ce la vediamo dopo infatti dico a meno che non si tratti di cose gravissime o di semplice risoluzione quindi magari un video che ha il titolo già diffamante non ci perdo più neanche tempo qualcuno diceva non ci viene alla sbarra potrà anche non venirci alla sbarra però in sede civile le cose cambiano perché comunque se viene riconosciuto che c'è la possibilità che quella persona ha fatto un reato e quindi c'è un rinvio a giudizio che non si concretizza perché la persona vive dall'altro capo del mondo e non è a conoscenza del processo sta di fatto che comunque l'autorità ha riconosciuto che ci siano gli estremi e quindi io poi posso tranquillamente chiedere un risarcimento a youtube in sede civile e vi assicuro che un giudice civile la sa riconoscere nella diffamazione non c'è bisogno che ci sia una sentenza penale di condanno certo anche perché in questo caso comunque è un danno extra contrattuale quindi non sei vincolata come creator invece ai contenuti esatto Giovanni nessuna domanda no stavo pensando al fatto che dicono per esempio non si presenterà alla sbar però non è che può decidere tutto lei nel momento in cui decide di denunciarmi ok e ovviamente io e i miei avvocati non è che il gioco poi lo può condurre solo lei nel momento in cui ha deciso di fare delle denunce non è che se ne può stare tranquillamente lì se mai dovessi finire in un processo ok non è che decide solo lei le regole del gioco che si sta lì negli Stati Uniti ma lei deve venire perché come ha detto già un avvocato Francesco Catania a noi piace giocare ma secondo le regole del gioco quindi che venisse in Italia perché nessuno le fa nulla se non a livello di colpi di legge nel senso di batossa a livello giudiziario ne prenderà e ne prenderà perché io continuo a leggere le cose che lei continua a scrivere a commentare ci risponde anche ai commenti falsità falsità e visto che veniamo provocati con questi documenti aspettate che forse ci stiamo pensando i documenti usciranno ce li avete fermiti proprio voi quei documenti quindi tra un po' arriveranno le verità sì sì ma a parte questo non è che servirebbero dei grandi documenti intendo dire l'anagrafe è un database pubblico in teoria se chiunque investe qualche euro per chiedere Francesca Bugamelli dove è residente secondo me risulta ancora Roma la butto lì non risulta iscritta all'aere o cancellata per irreperibilità eh no quindi dal mio punto di vista è difficile che possa una persona ottenere asilo politico e risultare ancora iscritta al suo anagrafe di di residenza ecco lei gioca sul fatto che sa che i pochi followers che le sono rimasti non verranno mai a controllare di qua che cosa diciamo e ne ho la conferma perché in questi giorni stanno scrivendo a noi Bruzzone Co che finora era stato questo il meccanismo che non si erano mai affacciati da quest'altra parte a guardare i nostri video che guardando li hanno capito subito la verità dove fosse no che si sono fatti fondamentalmente a prendere in giro molti di loro a questo punto stanno male perché è stato come un duro risveglio si sono resi conto di essere finiti in una sorta di incantesimo se così vogliamo chiamarlo perché non si spiega altrimenti e che la verità in realtà era portata di mano e se guardate le nostre vecchie live perché a differenza delle live della Bugamelle le nostre sono rimaste ancora tutte in piedi e tutte in rete fatevi una domanda e datevi una risposta anche su quello lo stiamo dicendo dal primo minuto che noi vi spieghiamo una cosa e poi voi ovviamente con le vostre mani e col cervello non faccio offese potete andare in ricerca delle risposte che vi starete ponendo cioè non vi abbiamo mai sottoposto la pappa bella e pronta vi abbiamo detto fate voi delle ricerche ok non abbiamo noi la bacchetta magica per controllare le vostre ricerche le mani o veniamo a falsificare le vostre ricerche della barra di Google cioè siete autonomi potete cercare quello che volete voi in primis come si diventa rifugiati politici richiedenti asilo quello che volete voi poi se dobbiamo andare affiniti per l'asilo Mariuccia se la ragazza dice che abbiamo iniziato noi ci vuole una bella faccia tosta perché io sfido chiunque ad andare a vedere io non vi faccio sentire l'audio così perché magari dopo ce lo segnalano ci blocca e mi stufa che ci buttano giù il video perché devo farvi vedere io devo farvi vedere che lei che inizia ad accusarci cioè abbiamo le date ovviamente d'accanto mio lei mi accusa di aver utilizzato i fake ma secondo voi se avessi dovuto utilizzare dei fake ma dopo tre giorni quattro giorni cinque giorni botta disposta avrei utilizzato il mio account originale avrei continuato con i fake ok avrei continuato ma sai cosa Giovanni poi perdonami però c'è un problema anche di trasparenza perché molti dei seguaci follower chiamiamoli come vogliamo della Bugamelli non sono al corrente o perlomeno Bugamelli non ha mai chiarito in che rapporti è per esempio con M Team dice che li supporta perché è stata aiutata nel momento del bisogno ma sarebbe interessante sapere se in che senso li supporta è una collaboratrice una dipendente prende una percentuale su quello che porta a casa M Team oppure no perché non è una cosa del tutto indifferente le regole di Twitch chiederebbero un po' di trasparenza sul punto quando fai una sponsorizzazione dovresti dichiararlo lei non lo dichiara mai come giustamente rileva a palle uomo Avvocato il problema è che qui manca la radice però perché neanche M Team si sa come sia configurato fondamentalmente quindi poi lei come si aggancia diffusso dove cresce se non c'è la radice lì quindi non è neanche M Team è qualcosa fondamentalmente adesso lo chiamano marchio la palla se la stanno aggiustando man mano perché le bugie ho letto uno dei commenti che diceva ma chi vi ha detto che un super investigatore lui ce l'ha raccontato perciò ce l'hava l'identità perché si occupava di questi grandi casi della mafia quindi ci teneva ad essere nascosto per questo motivo ce l'ha detto lui scusami palle uomo ti ho interrotto stavi per pronunciare tranquillo effettivamente colgo la palla al balzo tutto fa intuire ma magari ci sbagliamo che non si tratti di una collaboratrice esterna perché quello che dicevo io prima se è il mio servizio non ho bisogno di mettere sponsorship pagata ok primo secondo noi sappiamo e lo racconta l'avvocato nei suoi video che nel momento in cui poi lì vai a vedere se è stato fatto senza che lei lo sapesse però le richieste di takedown sui video dell'avvocato sono firmate mt trattino bugalalla quindi anzi bugamelli scusate ti dirò di più i dubbi stanno stanno non dico a zero ma prossimi allo zero in fisica tre numeri sono importanti zero uno e infinito ti darò un'informazione nuova che abbiamo rilevato proprio nella giornata di oggi attraverso diciamo delle documentazioni c'è proprio la volontà di Zeppellini di mettere in mezzo la bugamelli anche quando non ce n'è bisogno no è come se ormai dovesse infilarla in ogni cosa e parlo dal punto di vista legale e io penso che questo sia fatto proprio per evitare che lei possa avere un ripensamento no perché ormai i danni sono firmati da M. Team e Francesca Bugamelli c'è anche laddove bisogna avere proprio molta fantasia per infilarci Francesca Bugamelli sì ma c'è anche un vantaggio Francesca Bugamelli esiste Jonathan Benamì dubito che possa mai presentarsi da qualche parte al massimo una Bugamelli una faccia e una carta identità italiana valide c'è là tutte le identità fittizie di Zeppellini invece chiaramente non hanno documenti e non possono partecipare a un procedimento in Italia né di datatura civile né penale esiste almeno un caso in realtà sono diversi in cui Mirko Zeppellini si firma Mirko Zeppellini e si associa a quello che è il sito web di M-Team scusate Wayback Machine trovate che a un certo punto ci sono due eventi no? diciamo vedete voi la correlazione tra i due a un certo punto sulla pagina di M-Team quando ancora esisteva compare una sezione un'intera pagina fatta male come il resto del sito però un'intera pagina zeppa di foto di zeppellini comprese quelle photoshoppate dove mancano alcuni arti insieme a Spielberg eccetera eccetera ok compare questa pagina contestualmente arriva la richiesta di rimozione di contenuti da due siti web perché utilizzano delle fotografie delle immagini che sono state caricate sul sito di M-Team proprio quelle e zeppellini dice quelle immagini sono state prese in maniera illegale senza il mio consenso dal mio sito web dalle mie pagine web quindi diciamo anche qui diventa abbastanza difficile sostenere che zeppellini fosse solo un cliente così come diventa abbastanza difficile sostenere che Francesca Bugamelli sia semplicemente una collaboratrice nel momento in cui alcune richieste vengono firmate M-Team Francesca Bugamelli siamo d'accordo su questo credo lo squalo ti chiede se puoi mostrarlo con la condivisione schermo quali è troppo difficile questa cosa forse del sito se volete sì ma io eviterei francamente ragazzi è la prima versione del sito immagino quella dove ancora non c'era M-Team ma c'era Zeppellini in ogni pagina che faceva cose cercate cercate andate su archive.org waybackmachine sito di M-Team e fate fate i compiti a casa ecco anche perché ripeto dare scuse in una live per dire vedi utilizzano immagini senza il nostro consenso me lo eviterei allora ragazzi purtroppo credo che ormai volevo rispondere a questa domanda credo che ormai quelli che sono rimasti sono proprio difficili vuoi perché sono assolutamente assuefatti a Bugamelli vuoi perché non gliene frega niente e quindi neanche si pongono il problema di capire seguono il crime e basta però è poi come abbiamo cominciato noi no perché al di là delle investigazioni assurde di cui abbiamo parlato ampiamente anche un marchio registrato cioè gli americani in questo sono veramente hanno tutto no non esiste la privacy in America l'acquisto della casa lo trovi senza bisogno di pagare si trova sul web e sul web trovi anche i vari siti in cui trovi i marchi registrati M-Team non è un marchio registrato né in Italia né in America siccome ci sono diversi altri marchi which crime non è un marchio registrato però compare con una simpatica c-cerchiata eccetera eccetera quindi insomma non è ecco non è che potete fare di più ma in realtà si può provare sempre a far ragionare qualcuno le domande più che altro sono metteteli davanti la pagina Facebook per esempio di M-Team dove compaiono in bella vista le persone che si sono suicidate che rappresentano i casi in cui si occupano e chiedetevi quale professionista farebbe una cosa del genere per esempio esatto oppure ancora se un professionista avvocato investigatore esperto forense perderebbe mai tempo a pubblicare delle conversazioni che ha avuto con i clienti o con i parenti dei clienti se mi sembra professionale quello queste non sono cose per cui serve una esperienza o una capacità particolare di discernimento in teoria ci dovremmo arrivare tutti proprio ictooculi al primo sguardo poi ci sono tante altre cose che si possono fare per esempio com'è che questi esperti si dovevano comprare fra virgolette la firma di un professionista italiano caso di napoli nord se non sbaglio in relazione al consulente sei un super esperto americano e non puoi neanche mettere la tua firma è strano poi chi sono questi esperti normalmente quando paghi paghi per conoscere qualcuno non stai chiedendo scusate è un po' fuori contesto non succede quasi mai però intendo dire non è che stai chiedendo a tizio affiliato a un determinato clan di far spaccare le gambe a qualcuno per cui non ti dice il nome del professionista tra virgolette è chiaro che in quel caso stai avvalendoti di un consulente che peraltro dovrebbe essere famoso quindi il nome di questo consulente deve risultare anche perché chiaramente non è che puoi pubblicare documenti anonimi cioè depositare alla procura documenti anonimi allora vi faccio vedere questa scusami sì era una di quelle a cui mi riferivo sì allora questa è Lumen Lumen è un database dove si possono fare le richieste di rimozione delle immagini no? su su internet quel famoso diciamo servizio che loro vendono a a caro prezzo no? in verità è un servizio che Google mette a disposizione quindi se per caso la vostra immagine viene utilizzata in maniera impropria da qualcuno e quindi quella foto è indicizzata su Google perché aiutatemi se dico una cosa non corretta l'ho guardata un po' di tempo fa no? quindi se voi ad esempio avete un'immagine che è stata rubata e viene indicizzata su Google quindi non è possibile rimuoverla dal sito in particolare perché dovrete proprio interfacciarvi con loro no? però potete chiederne la rimozione attraverso lumen e non costa nulla basta semplicemente compilare il format e il 2 giugno del del 2021 il caro Zeppellini che era venuto a conoscenza del servizio delle Iene e sapeva che la Bruzzone e tutti quanti l'avevano vista in volto e quindi aveva paura che le Iene lo trovassero prova a far sparire tutte le immagini che poteva diciamo aver disseminato nel web in particolare le sue immagini erano sul sito di Mteam leggete Sender Sender vedete chi ha fatto la richiesta vedete chi ha fatto la richiesta in alto a sinistra guardate la data è importante perché le Iene fanno tre servizi nel 2021 nell'ultimo poi lo trovano e il 2 giugno è praticamente il giorno dopo il secondo e quindi insomma lui fa la richiesta a Google per rimuovere il suo volto perché ha paura che lo trovino e guardate cosa scrive il link originale quindi il suo è Mteam M.team quindi non un sito particolare no? il sito di Mteam è quello che c'è anche adesso quindi lui sostiene di essere il proprietario delle foto attraverso c'è anche adesso non è più online no ora non c'è più e chiede la rimozione da questi link dove ci sono le sue immagini tutte le immagini che abbiamo trovato di lui che fa il regista di lui cioè quindi ragazzi guardate qua queste sono le cose che abbiamo trovato anche noi quindi Mirko Zeppellini chiede di rimuovere le sue immagini perché il proprietario è M.team lui dice nella descrizione queste immagini sono state rubate dalle mie pagine personali pagine web ovviamente e usate senza il mio permesso senza il mio consenso pagine originali link è quello di Mteam e poi ci sono i due siti le due pagine dove tra l'altro uno è Scandalo Cinema Wordpress quindi c'è ragazza puoi fare la ricerca della sua portavoce per far vedere un attimino che cosa ha provato a fare sì puoi scrivere anche solo Bugamelli senza il numero senza il nome d'arte dovrebbe già uscire qualcosa mi sa anche con diciamo Bugalala aspetta prima puoi anche non mettere il nome d'arte perché esce qualche ricerca qualcuno pensa ad esempio che si siano avvicinati per questo allora no si trova si trova una richiesta fatta ancora con l'avvocato Newberg Bugalala non mettiamo il nome d'arte però io mettendo il nome d'arte mi è venuto fuori anche Bugalala c'era perché esatto era qua ok era Bugalala vedi un attimino guardate la richiesta a maggio 2021 la signorina mi accusa a gennaio 2022 di aver messo le sue foto ovunque quando lei quindi in tempi non sospetti non sapevo manco l'esistenza di questa ragazza aveva già fatto una richiesta di rimozione guardate lì non so se Monica riesce a ingrandire come prima non so se riesce a ingrandire come prima vedete maggio 17 maggio 2021 poi il nome d'arte lo vedete e lei poi ci accusa di averle messe in rete però vedete quante ce ne sono tutte finite diciamo che ragazzi è una cosa molto molto comune facebook aperto avete le conversazioni di facebook scusatemi vi ho avete letto tutto sì direi di sì è stato abbastanza lungo scusatemi meno male che erano fake che mi scrive e meno male che era col mio profilo che non ho profili fake peccato non c'era la mia conversazione aperta meno male che messager non lo uso quasi mai rendiamoci conto no lì si parla di cosa è stata capace quando poi ovviamente le richieste del lume non si possono rimuovere più quelle non si rimuovono quindi se voi vi andate a fare le ricerche da soli ok non vi sto inducendo a fare le ricerche porn però andate a vedere che quelle foto sono accessibili da strumenti immagini di google lei ha dichiarato e domani poi la diva del tubo alle ore tredici mi sa farà cioè pubblicherà un video proprio inerente a questa parentesi del revenge porn quindi ascoltiamola tutti perché se mi ci dirà delle cose molto molto interessanti perché lei ovviamente per l'esperienza professionale che ci ha raccontato ha avuto spesso a che fare con queste cose quindi chi meglio di lei può raccontarci un attimino che cosa è successo e ritornando proprio appunto anche un attimino a youtube e ricentrando un attimino il mirino su gli youtubers che cosa è accaduto in prima battuta ovviamente tutti hanno creduto scecamente alle storie della bugalalla perché è stata accompagnata da youtubers famosi no perché poi ha avuto tempo di capire che comunque occhio creepy iris babilonia sono delle youtubers seguite da tantissime persone no quindi è stato preso per oro colato quello che veniva detto contro noi i poveri quattro sciacurati perché ovviamente sul web chi ci conosce fondamentalmente se magari uno non guarda trasmissioni pese tipo porta a porta agli undici di sera l'abruzzone chi la conosce no fondamentalmente cominci per questo sentito dire di questa donna la criminologa ti fai le tue mezze ricerche solo per quello che riguarda te ma ovviamente il tuo verbo è occhio creepy è iris babilonia quindi tutto quello che viene detto da queste persone che potenzialmente sono i tuoi idoli è legge e guardate adesso che cosa sta succedendo c'è proprio l'invercio cioè stiamo ritornando all'indietro appena hanno cominciato a fiutare che da qualche commento di iris babilonia c'è qualcosa che non va che poi in realtà tutto il merito diciamo del del ricredersi si è avuto ovviamente in parte all'avvocato catania perché è stato il primo tra gli youtubers a occuparsi un attimino della faccenda e aveva comunque una credibilità quindi già una buona fetta di utenti che seguivano anche bugamenti vedendo l'avvocato catania esprimersi sulla vicenda in quel modo ha detto giustamente abbiamo detto inizio puntata che questi youtubers content creator comunque conquistano la fiducia degli utenti si sono cominciati a porre due domande come mai un avvocato catania si espone in questi termini sulla vicenda perché espone nubi che poi chi si ricorda inizialmente non aveva neanche puntato il dito l'avvocato catania si faceva delle semplicissime domande ok cioè stava cercando di capire la verità dove fosse era veramente e ha rischiato anche uno scontro titanico con l'abruzzone ed era super imparziale cioè veramente si poneva delle domande tempo record live dopo denunciato io avevo scritto un commento nel tempo non ci conosceva ma ancora scrissi un commento dove mi complimentai comunque per il video e dissi di tenersi pronto perché sarebbe arrivata la denuncia come era arrivata a me oh ma forse 24 ore dopo è arrivata questa cosa nella in una live della Bucamelli paropà dopodiché si è affacciata e ringrazio sempre la diva del tubo che ha un grandissimo seguito da là si è cominciato proprio a creare a crepare tutto il sistema e poi nell'ultima live avete visto che vi abbiamo raccontato che non sono gli unici youtuber a credere quello che è successo ora si stanno svegliando perché chi aveva appoggiato la campagna diffamatoria e persecutoria nei nostri confronti adesso ha fatto retrofronte perché ha provato sulla propria pelle Zeppellini su Zeppellini ve l'ha detto anche Giussi vi bombarda cioè quello vi mette lì di mail che cosa devi dire che cosa devi fare e ti telefono e ti stressa appena vede che tu stai per scappare oppure magari vuoi avere un margine di libertà tuo comincia ad andare in escandrescenza no? secondo me già in fatto con Iris Babilonia che comunque non ci è andata molto pesante contro di noi e non è che abbia fatto proprio tanta tanta buona luce all'MT diciamo si era concentrato un po' più sulla Bugamelli se me Giazzi e Pellini non andava giù poi c'è l'Occhio Creepy e Monica dimmi volevi dire qualcosa no volevo pensavo che avessi finito volevo so che in chat sono un po' molesti perché ce l'hanno con palle uomo ma nel frattempo è sotto controllo la differenza era esprimere un fatto e diffamare e così passo la palla all'avvocato Catania che stasera è silenzioso e caci torno perché siamo troppo seri ci preferisce più trash no 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 comunque a parte gli scherzi non c'è alcuna molestia spezzo una lancia a favore no 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 stavo dicendo che ho tre ore di sonno in tre giorni e per quello a parte questo comunque sia sì la differenza fra informare e diffamare innanzitutto bisogna distinguere fra chi è una persona pubblica un personaggio pubblico e chi non lo è perché ci sono due gradi diversi di privacy e di comunque anche di sensibilità rispetto alle informazioni che vengono diffuse per ipotesi se io dovessi lamentarmi circa le abitudini del vicino di casa che magari è un po' troppo libertino eccetera potrei stare violando la sua privacy e magari fare anche diffamazione viceversa se sto parlando di un presidente del consiglio che si presenta come ultraortodosso serio è chiaro che ci troviamo in una situazione diversa perché perché quando parliamo di fare informazione o comunque di diritto all'opinione dobbiamo valutare se quella che stiamo dando in primo luogo è una notizia cioè qualcosa di rilevante per il pubblico o meno se è rilevante per il pubblico ne puoi parlare anche se elede quella che è la riservatezza l'onore di qualcuno però naturalmente tutto questo deve essere fatto con criterio ci deve essere una continenza intendo dire un conto è dire che un deputato si è dimenticato di pagare un caffè uscendo altro conto è presentarlo come uno dei peggiori ladri perché per l'appunto non ha pagato il caffè inserendo una marea di epiteti e di circostanze completamente inventate o comunque grandemente esagerate in questo caso sarebbe diffamazione i due principali vincoli sono questi qui proprio stringendo stringendo in breve poi potremmo fare anche il discorso su tutta la satira che è molto sentito negli ultimi giorni la satira è una cosa ancora diversa e più pungente che è accettabile soltanto quando per l'appunto è pertinente a una determinata situazione quella vignetta che è uscita qualche giorno fa con la moglie credo di Lollo Brigida che mentre il politico era fuori a combattere contro l'immigrazione più o meno clandestina ritraeva la moglie a letto con un amante extra comunitario non è che fosse proprio satira perché aveva il problema di prendere come bersaglio la moglie che salvo errori non è neanche un personaggio pubblico viceversa se avessero fatto una vignetta sul personaggio pubblico sarebbe stato diverso ecco bisogna assicurarsi complessivamente quando si vuole esprimere la propria opinione fare informazione che la notizia sia rilevante per il pubblico che naturalmente ci sia un principio di continenza nell'esporla e che ovviamente riguardi principalmente un personaggio pubblico o qualcosa per cui c'è rilevanza per il pubblico spiego meglio qualche tempo fa un mio collega ha fatto uso della propria arma contro una persona in quel di Voghera se non vado errato in sé per sé non era un personaggio pubblico ma l'evento cioè il fatto che si utilizzasse un'arma contro un'altra persona alla sera era certamente una notizia e questo ti autorizza a parlare di quel caso poi naturalmente dipende anche dagli elementi che emergono e da come di presenti dal principio di continenza in parole povere se tu ti limiti a riferire in maniera adeguata quello che ritieni che sia successo precisando le fonti e queste fonti sono attendibili nessuno ti potrà dire nulla o meglio potrai essere citato per diffamazione ma poi la procedura dovrebbe fermarsi se hai fortuna in sede di controllo dal giudice dell'indagine preliminario in sede di udienza preliminare se hai sfortuna invece ti dovrai sorbire tutto il processo per stabilire se hai rispettato questi parametri o no spero di non essere stato troppo prolisso e quindi che diciamo scusami Monica oversimplificando diciamo che quello che sta dicendo l'avvocato include anche un'altra cosa che spesso viene fraintesa sul web ovvero che se dico la verità allora non è mai diffamazione questo è falso perché se io dico affermo qualcosa di reale realmente accaduto ma lo faccio ledendo l'onore la dignità di di chi questo fatto ha compiuto beh probabilmente me la prendo la diffamazione sì possiamo fare un esempio possiamo fare un esempio stupido ipoteticamente io assolutamente queste cose non le faccio non ho laureola stasera in testa però per ipotesi se Palleuomo dovesse raccontare che l'avvocato Catania durante i consigli comunali avrebbe un senso come notizia nel suo intimo avrebbe senso anche ricercare la malia e bugalalla su internet di notte perché parlo poi però comunque se dovesse riferire che l'avvocato Catania ha delle abitudini particolari che non c'entrano assolutamente nulla con la sua vita professionale e con la sua immagine pubblica in quel caso l'evento sarebbe reale però o che gli piace un certo tipo di gioco erotico l'evento sarebbe sicuramente reale ma potrebbe integrare ugualmente diffamazione per il semplice motivo che non c'entra assolutamente nulla ed è fatto soltanto per lei dell'onore non c'è un fine diverso e più alto ecco questo è un esempio insomma quindi oppure ancora il marito tradito pubblica sul giornale si prende otto colonne spende quello che deve spendere e sulle pagine non so di un corriere della sera ci mette questa signora è una grandissima e poi una serie di parolacce potrebbe essere vero entro certi limiti però sarebbe comunque diffamazione e viceversa mentre invece una Veronica Lario dice che il marito Silvio Berlusconi ha dei gravi problemi sotto questo profilo e corre dietro ogni gonna come pure è successo all'inizio della separazione quella è una notizia perché comunque era un ex presidente della Repubblica capo di partito con determinate responsabilità quindi l'affermare che potrebbe non essere tanto in linea o non prendere le decisioni responsabilmente è una notizia in quel caso o quantomeno te la vai a discutere in tribunale quando non è diffamazione diciamo che se io parlo con Palle Uomo e dico che il mio matrimonio con Giovanni è finito perché Giovanni mi ha tradito non è diffamazione perché gli sto raccontando un fatto al solo scopo di raccontargli quelli che sono anche i cazzi miei se invece nello stesso modo andrò a dire a Palle Uomo che Giovanni è uno stronzo e non deve dare la sua fiducia perché io ero sposata con lui e mi ha tradito beh lì diciamo l'intento non è quello di essere di mettere la conoscenza di un fatto mio ma è quello di volere screditare la persona di Giovanni e quindi in quel caso un giudice potrebbe peraltro scusatemi mi sono dimenticato un ultimo dettaglio che spesso tralasciamo dandolo per scontato si ha diffamazione quando si riferiscono queste informazioni questi dati a più persone non è un optional me lo sono ricordato perché qualche tempo fa la Bugamelli insieme a un collega che è l'avvocato Antonio Guglielmelli avevano tenuto una live in cui parlavano sportivamente di conversazioni registrate fra due persone di cui una era Teresa Bruzzone nell'altro non mi ricordo forse era lo stesso Zeppellini è possibile in cui l'autoressa Bruzzone esprimeva dei pareri personali nei confronti di altri professionisti che comparivano in tv o svolgevano determinati incarichi e purtroppo il collega per quale francamente credo che lo segnalerò se non è già stato fatto all'ordine diceva di tutte di più insieme alla Bugamelli ecco in questo caso non è diffamazione perché la dottoressa Bruzzone in questo caso ma può essere chiunque altro di noi non stava riferendo a più persone stava parlandone all'interno di una conversazione privata per aversi diffamazione è necessario che ci sia un riferimento per l'appunto a più persone quindi se voi parlate con la vostra amica del cuore dite quanto è stronzo il mio ragazzo il mio ex che mi ha tradito eccetera non è diffamazione è semplicemente uno sfogo in questo caso diversamente se prendete un'intera sala per fare l'annuncio pubblicamente di fronte a 20 30 50 persone lo è eh no di Nick Mop se la persona è presente in verità diffamazione non c'è perché non c'è perché io ho la possibilità di difendermi quindi se tu mi dici delle cose io sono presente al limite si parla di ingiuria ma non non si non si concretizza però hai risposto lo stesso ah se non è però hai risposto lo stesso il soggetto non è presente diffamazione se fosse presente potrebbero esserci attenuanti no non c'è reato se è presente tra l'altro perché io mi posso difendere se è presente dovrebbe essere ingiuria ma l'ingiuria è stata depenalizzata da Renzi perché possiamo insultarci tranquillamente volendoci bene insomma tra l'altro avvocato mi corregga se sbaglio ma esteso alla dinamica web per essere presenti significa anche essere presenti per dire in questo caso in chat chi sta in chat è presente si dipende anche dalla possibilità di poter di replicare o meno ora sicuramente se iniziamo a insultarci noi che siamo tutti e quattro in diretta con lo schermino siamo sicuramente sullo stesso piano ho qualche dubbio da da streamer a chattaro perché comunque lo streamer ha un certo vantaggio sulla persona in chat non ha esattamente la stessa visibilità però è un dubbio ovviamente se io se io vado a per dire peraltro seguendo la live che mi ha già bannato non ho mai fatto un intervento ho scritto una parola mi ha bannato direttamente quindi non vorrei che un domani molto lontano dicesse no era in chat ragazzi questa di Mega Upload è una panzana talmente grande che gran parte dei follower che si è giocata alla Bugamelli narrano che il motivo è stato quello lì no? il fatto che lei abbia detto che non era l'FBI per chiari e palesi violazioni no a quell'epoca Mirko Zeppellini lavorava in proprio per il Mossad e ha sabotato direttamente Mega Upload questa me la son persa no l'ha detto lei vi ricorda in una live che mi ricordo insomma è stata abbastanza con i suoi eh eh vi ricordate eh l'ha chiuso sono stati loro ormai insomma l'incubo la imito anche che si è una vaccata titanica tra l'altro poi il suo pubblico è costituito da ragazzini Mega Upload era una riserva inesauribile di film e videogiochi brava Scorpio dici la cosa giusta che era quello che dicevo poca in un'altra live e lo ripetiamo perché è diciamo anche il motivo per cui loro adesso si sono introdotti nel web ragazzi se c'è un profilo fake non importa che voi abbiate l'IP dalla corte federale dal Giappone non importa l'indirizzo IP lo deve trovare l'autorità italiana cioè non è che andate a fare una denuncia allora vi dirò di più se io vado a denunciare un video su YouTube che è diffamante eh io eh posso anche portare diciamo il supporto alla polizia no? però la polizia se quel video non è più su YouTube l'indagine fatta bene perché potrebbe anche non farla ma quella potrebbe essere diciamo un motivo di opposizione dall'avvocato del di chi difende la persona l'indagine fatta bene prevede che per quanto io porti il video su YouTube sul sul dischetto l'autorità giudiziaria debba comunque acquisire l'originale attraverso YouTube per un'indagine viene fatta bene poi magari non lo fa però se non lo fa vuol dire che in sede diciamo in cui andiamo se andiamo a giudizio no? l'avvocato della controparte potrà dire ma il video non c'è più questo video l'ha prodotto lei e chi me lo dice che è quello originale e se la copia non è stata fatta in maniera ehm perfetta quella prova può anche essere persa quindi questo pensate un video che è visibile pensate se voi potete arrivare con un foglio della corte federale che non si capisce quale perché ce ne sono quanti in America non lo so ma loro la dicano a casa come se ce ne fosse una pensate se io vado un foglio con un indirizzo IP e dico Fabio Z mi ha diffamato e dietro questo nick si nasconde chi ha questi IP e voi che pensate no? che la polizia prende l'IP controlla che ne so perché ho visto te Fabio scusami controlla chi è il tizio che ha questi IP magari è fortunato invece di essercene 200 con quell'IP ce n'è soltanto uno e lo manda a giudizio così cioè non funziona in questo in questo modo quindi ragazzi questo servizio che loro dicevano noi troviamo l'IP non serve un pifero quell'IP lì va semplicemente a arricchire il fascicolo ma le indagini le fa sempre la polizia ma questo vale per qualunque altro tipo di reperto che domani vi troverete a cioè le truppe intendo dire il numero IP se non è verificato può essere prodotto da chiunque e infatti salvo errore da parte mia è capitato che M Team utilizzasse lo stesso modello di affidavit cancellando le parti scomode tipo nome cognome e data della richiesta per altri per altri clienti quindi alla fine l'IP che facevano girare in alcune perizie perlomeno era sempre quello correggetemi se sbaglio figuratevi se quella è una prova idonea c'è un foglietto o un file che chiunque di noi può scrivere basta che prendiamo l'accortezza di controllare dei parametri fondamentali dell'IP e qualunque cosa è verosimile cioè non possiamo inserire qualcosa che spazia se non erro fra 0 e 255 più avanti e via discorrendo quindi però allora poi l'inizio il pd santanico lo cercano ormai da 2018 da 2019 aspetta però che cosa è successo poi in una delle live dissero che avevano identificato poi alla fine questi pd santanico e quindi avevano capito che era un multi fake fondamentalmente gestito da me monica collo ormai è stata citata lì avevano esplicitato proprio i nostri nomi anche la sorella di monica proprio non si è mai affacciata sulla vicenda che tanto è da pubblico nel video lo dico e hanno richiesto di controllare l'associazione mia e di santanico e tra poco ci sarà ridere su questo sì perché tecnicamente è una calunnia di santanico a me al di là che lo dico un attimino tra le righe perché poi magari non avete capito il soggetto l'angela nel senso che io mi limito perché ho un mio modo di fare personale e preferisco filtrarmi ma io non mi discosso dall'idea di santanico e lo dirò sempre posso magari non condividere i modi perché io ne ho di altri e quello che penso magari perché è filtrato ma magari nel mio cervello c'è pure di peggio ma sfido io chiunque dopo tutto quello che mi stanno facendo negli anni a avere parole candide casse pulite verso quei soggetti di parolacce me ne passano come te però me ne filtro di scriverle ma ci sono quindi per tranquillizzare tutti ti manderai affanculo da mattina alla sera con tutto l'alfabeto da A alla Z di parolacce non lo faccio perché è quello quindi quando diciamo faccio questa specifica non è perché io mi discosso dall'operato perché io ho gran fiducia in santanico e lo dico da sempre non mi interessa questo dove mi porterà tanto le indagini faranno il proprio corso pensate quanto sta santanico come agisce non so chi ci sia dietro e non lo voglio sapere so dove ha agito in quali casi è intervenuto che cosa ha scoperto che cosa ha tirato fuori e quindi io non mi discosso è inutile che poi nelle denunce di tal l'angella non si discossa da santanico aspettate non la usate a vostro piacere perché io appoggio l'operato nel senso di denuncia di santanico che può essere cruento che può essere però alla fine se riduciamo tutti i minimi termini quel santanico è sempre dove hai la ragione perché la ragione in alcuni casi è proprio oggettiva come oggi si stanno riempiendo di stronzate cioè Zeppellini e Bucameli vi stanno riempiendo di stronzate io vorrei rispondere a Chiara tra l'altro chi di P ferisce di P perisce vi racconto una cosa quando diciamo abbiamo saputo abbiamo visto la casa nella pubblicità del servizio delle iene noi è un bel po' che ci stiamo dietro ma mica perché vogliamo andarle a prendere in America a rapirli ma per segnalarli perché li abbiamo segnalati ovunque in ultimo anche per le fatturazioni aspettiamo solo che mostrino un documento per segnalare all'ambasciata quindi noi è vero che li abbiamo seguiti ma per avere dati per farlo diciamo arrestare perché speriamo ci manca solo che andiamo ad arrestare noi però insomma non lo escluderei neanche perché così non si può vivere comunque quando hanno fatto vedere la la rei ha fatto la pubblicità dove si vedeva un attimo diciamo la casa l'investimento della signora Bucamelli e abbiamo visto questa casa e questa casa accanto che ci ricordava qualcosa no? e ci siamo ricordati che effettivamente noi quella casa l'avevamo vista nelle sue foto e quindi cos'è successo siccome nel blog dei fermiamo i truffatori di mteam c'era effettivamente insomma lo state counter quello che lui minacciava di aver messo sul sito per beccare Sant'Anico che non l'ha mai beccato c'era effettivamente un IP che portava a una zona precisa di Grand Rapids e quindi dopo aver visto le immagini della casa le ragazze l'hanno messo su su Google Maps e hanno trovato casa loro con quell'indirizzo lì praticamente subito e poi effettivamente guardando un po' dopo il servizio delle iene perché il servizio delle iene nella pubblicità non l'avevano detto che l'aveva comprata no? e quindi dopo che hanno trovato l'indirizzo e hanno visto hanno confrontato le foto hanno capito che era quella effettivamente hanno trovato la prova ad acquisto quindi abbiamo scoperto anche prima delle iene che l'avessero acquistata e quindi chi di P ferisce di P perisce però ragazzi quelle informazioni no? se io vado eh al se io vado alla polizia a denunciare no? e faccio vedere l'IP dello state counter e la fotografia della casa della Bugamelli cioè non è che mi dicono è lì sta lì cioè non gliene frega niente è chiaro che poi disgraziatamente il registro delle proprietà in America è pubblico e quindi io ho un riscontro però senza quel riscontro lì non è che io porto un IP e dico ah questo è l'IP che mi veniva a visitare il sito e quindi è lei e vive là cioè non esiste non esiste qui ma non esiste credo in nessun stato quindi attenzione perché non sono i soli eh ci sono anche consulenti che per veri in Italia che per fare le loro investigazioni chiedono anche centomila euro ora ragazzi va bene che c'era qui Corbelli che dice sempre che il mercato è libero e quindi io per il mio lavoro posso farmi pagare quello che voglio no però attenzione purtroppo le persone che hanno perso i loro cari sono quelle che effettivamente se trovano il malvivente le spendano e il malvivente non deve essere per forza un finto consulente a volte sono anche colleghi vero Catania e e che rovinano anche è mutato scusate sì 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 infatti chiedo scusa c'era lo squalo che aveva fatto una domanda veloce per allora si ricollega semplicemente all'indirizzo se hai solo il nome e cognome di una persona senza altri dati è molto difficile ma se hai perlomeno i dati anagrafici sai dove è nato e quando lo puoi trovare in maniera abbastanza agevole perché i dati anagrafici sono pubblici naturalmente devi fare domanda però lo puoi fare tutto qui poi vabbè ho visto che c'era anche Z che chiedeva se era riservato il fatto che una persona potesse dire che è sotto indagine sì che lo può dire cioè non è che ti puoi fare causa da solo per aver violato la tua stessa privacy può dipendere con riferimento eventualmente ad altri indagati se hanno una vita pubblica o meno però se senti la necessità di dire che qualcuno ti ha querelato il fatto potrebbe essere di interesse pubblico puoi farlo tranquillamente certamente tu non stai violando nulla di te stesso nulla nei confronti di te stesso peraltro non lo so perché a me non è ancora arrivato l'avviso di garanzia per la Lugamelli però vedremo io volevo smorzare l'attenzione vedo Palle Uomo è un sacco di fan non so se sono persone che o degli invidiosi allora ragazzi non si buca nell'uno non si buca l'abbiamo proprio chiamato noi ci piaceva tanto lo volevamo qui con tutti noi stessi quindi non si è infiltrato è un piacere averlo qui non so se è un amico tuo non credo di conoscerlo però la cosa divertente il paradosso se vogliamo è che citare uno che cerca attenzione è proprio il metodo giusto per levarselo dalle scatole io l'ho visto un po' quindi lo volevamo anche noi qui che non era giusto che andassi ovunque quindi non si è infiltrato è stato pregato di venire qui quindi lo dico pregato mi sembra esagerato me l'avete chiesto ci faceva piacere la tua presenza ma no ci piaceva anche perché comunque hai fatto dei bei contributi se vi andate a recuperare anche le puntate che ha fatto sul canale di Wild Half potete recuperarle e c'era anche l'avvocato Catani in una di queste quindi ho avuto un modo di ascoltarlo perché io l'avevo notato tra i commenti delle nostre live poi ho sentito un pochino come disquisiva sulla questione di M Team quindi mi sembrava proprio piacevole ascoltarlo portarlo qui soprattutto visto l'esperienza ecco che dicevo da internauta persona esperta avete visto ci ha raccontato tantissime cose di cui non eravamo a conoscenza quindi è anche un contributo ovviamente solido al di là di dove siamo andati a fine come ti sei interessato alla storia Palle Uomo se ci si riferisce alla questione M Team immagino oggi era un po' più era un po' più generica la live allora M Team credo che mi so avvicinato proprio attraverso i video di YouTube che parlavano un po' del caso perché io non come ho già detto in in un'altra live io in realtà fino a qualche settimana fa non avevo neanche il follow di Bugaralla quindi sì ovviamente sapevo sapevo che è una streamer sapevo che ha cambiato diverse volte il contenuto è arrivata al true crime però per quanto riguarda M Team conoscevo dalla riapertura del caso Cantone ricordo di aver letto appunto l'articolo che ha aperto il caso Cantone per le confulenze però ovviamente non è che stampato in testa io per dire il servizio delle Iene del 2021 non l'ho visto perché banalmente in Italia non guardo le Iene anche se vivessi in Italia non guarderei abitualmente le Iene ma ok e nulla quindi essenzialmente forse un annetto fa esattamente un anno fa ho cominciato a recuperare un po' della storia che ci sta dietro e in particolare credo che da gennaio avevo cominciato a fare degli approfondimenti poi è successo quello che è successo io vorrei dire una cosa e poi vi lascio mandare che stasera l'abbiamo sequestrato Catania tra un po' si addormenta lo vedo lì per cascarmi e tornando un po' all'argomento con cui abbiamo aperto questa live quello che mi dispiace avendo conosciuto anche altri streamer avendo visto anche altre realtà perché per forza di cose c'è un rimbalzo alcune le attivate in battito la bugamelli poi comunque entri in contatto con altri soggetti anche su TikTok anche se non sono attiva su TikTok però lo guardo e che c'è la tendenza a fidarsi di quello che dice diciamo lo streamer senza appurare che abbia o meno le competenze per farlo ad esempio il true crime raccontato da che ne so occhio creepy piuttosto che Lisa true crime o altro ti narra una storia e ti racconta la storia come viene narrata la bugamelli ad esempio approfondisce queste storie dando una dimensione psicologica dell'assassino di tutto quanto lei non ha i titoli per farlo ragazzi e questo può diventare molto pericoloso anche noi può capitare che vi raccontiamo delle cose però è un'opinione cioè noi ci poniamo non è che di psicologia possono parlarne solo gli psicologi è un'opinione invece quando tu fai l'analisi psicologica e non lo puoi fare è pericoloso soprattutto perché poi questi casi vanno sempre a riportare tematiche legate al bullismo a tutta una serie di problemi psicologici che sono molto a volte psichiatrici più che psicologici che sono anche molto comuni e quindi ti muovi in un terreno molto particolare ed è molto difficile e mi dispiace che le persone non abbiano assolutamente contezza di ciò cioè è come se domani Palle Uomo o Giovanni si mettessero a disquisire di giurisprudenza o politica che non sono niente di politica sai bene o male non sono niente io e le cose però la dovremmo conoscere tutti la politica cioè quando non la conosciamo è perché la vogliamo in maniera approfondita però ecco di medicina ad esempio cioè io ti posso raccontare che magari ho avuto un problema e ti dico la mia esperienza personalissima ma non è che ti do consigli comunque questo è un aspetto in realtà abbastanza preoccupante sì nel senso prima si parlava del perché la gente stabilisce un certo tipo di legame e questa con il content creator o lo streamer o lo youtuber perché non tutti gli streamer sono content creator chiariamoci cioè generano content ma non è a sto punto chiunque lo fa io ad esempio non sono un content creator la questione è questa perché si stabilisce questo legame molto di più su twitch che su youtube perché su twitch come possiamo vedere anche ora la gente scrive in tempo reale quindi se non sono d'accordo sul fatto che siano solo ragazzini perché statisticamente vi dico che tante di queste persone sono belle che adulte adulte vaccinate nella gran parte dei casi e banalmente sono persone sole con qualche problema ci sono un sacco di persone sole con qualche problema che capitano a me capita di streamare la notte sto lì che gioco al mio videogioco e la gente con domande esistenziali quindi diciamo che 9 su 10 sono troll che mi stanno prendendo per il culo per vedere che risposta do a quelle domande serie però 1 su 10 magari è effettivamente uno che cerca compagnia a quel problema vuole parlare di non lo so il suo il suo malessere e cerca in pincopallo che sta lì anzi pincopallo uomo che sta lì una risposta allora la due sono le vie o becchi uno che un estante dice guarda io non ho le competenze ti posso suggerire di parlarne con un professionista oppure quello che si improvvisa magari con la speranza che sia mai che escono due sub tre sub ci sono streamer e questo ve lo posso garantire sviluppano questo super sono tutti loro amici sono tutti loro amici fratelli e familiari si sentono in privato ma capita ovviamente capita che con qualcuno della community si stabilisca un apporto a distanza virtuale magari un giorno ci si becca a bere una birra ma la tendenza è trattare tutti come i migliori amici i fratelli il fratello che non ho la sorella che non ho mio padre mio zio mio figlio e questo ovviamente è preoccupante nel senso che la maggior parte di queste persone banalmente non sono non so neanche come definirlo però non sono totalmente capaci nel senso che sono vulnerabili ok non sono nella posizione di poter dire no adesso interrompo questo rapporto ma ad esempio vi dico una cosa una cosa di cui non abbiamo parlato però è successo tempo fa allora mi hanno fatto vedere una signora che è andata a commentare in maniera molto brutta sulle pagine di il mio team danno praticamente della donna di facce di costumi alla bugamelli una cosa che effettivamente diciamo dalla quale mi dissocierei a mani basse però loro non lo raccontano qual è la storia di questa donna perché ragazzi molto spesso quelli che fanno crime si occupano di casi molto lontani da noi e quindi effettivamente anche se gli scappa quella parolina in più non incide sul vissuto delle persone invece la bugamelli occupandosi del caso di Saraiello ha messo praticamente sull'agonia mediatica la nuova compagna del marito dell'Aiello la Saraiello è una donna che è morta di morte naturale e il marito non si capisce diciamo per quale motivo ha deciso di filmarla come ha spiegato il medico per capire che tipo di crisi avesse forse si è dimenticato l'ha filmata per otto minuti e sta povera donna è morta chiaramente i familiari della donna lo hanno denunciato c'è stata una serie di indagini e Metin si è introdotto in questa storia c'è da dire una cosa quest'uomo era già in crisi con la moglie cioè si dovevano separare quindi non è che era una notizia non passata alle cronate ecco ma la bugamelli ha avuto il coraggio di dire che il marito aveva questa nuova compagna e probabilmente voleva insomma la morte della moglie l'ha voluta proprio perché stava con questa nuova compagna non parliamo di persone che stanno a New York parliamo di persone che i quali sono sui giornali perché il nome di quest'uomo era sul giornale hanno dei profili Facebook hanno una vita e la compagna ha perso il lavoro per questa storia adesso ovviamente l'hanno denunciata però i tempi della giustizia sono biblici e intanto sta povera donna che ha avuto diciamo solo la sfortuna fortuna di innamorarsi di una persona che aveva da poco perso la moglie in condizioni tragiche ricordiamo che tra l'altro hanno sempre lasciato credere che questa persona fosse vicina all'arresto perché loro come al solito avevano trovato le prove diciamo di questa cosa questo cristiano è stato assolto ed è rimasto cosa mesi e mesi di diffamazioni su Twitch ad opera di questi criminali perché sono due criminali e non smetterò mai di dirlo e ragazzi questo perché si fa perché non si hanno né le competenze né gli strumenti perché io non credo che volessero colpire la compagna di questo uomo no? non credo che gliene fregasse nulla ma se tu non hai gli strumenti per fare determinate cose e non capisci che non ti puoi permettere di andare a dire una cosa del genere poi fai questi danni ecco che non sono da poco quindi non c'è solo le vostre denunce ce ne sono altre quindi quando ti metti lì e torniamo al discorso di prima per concludere e davanti a un vasto pubblico ti assumi la responsabilità di dire determinate cose di trattare determinati temi devi renderti conto di quali sono le conseguenze alle quali vai incontro ma non solo anche il fatto che lì in mezzo ci sono delle persone facilmente manipolabili che potrebbero in qualche modo prendere per orocolato quello che fai quello che dici e fare delle cose senza senso cioè per dire se un utente della Bugamelli sentiva che questa donna stronza aveva causato diciamo la morte di quest'altra cioè magari che ne so la vede in mezzo alla strada e la credisce la gente non sta bene e non si può diciamo trasmettere questi messaggi così ma io lo dico in generale poi ricade sulla Bugamelli ma non è la sola ecco a fare queste cose e poi molti seguono seguono il crime per imparare anche qualcosa ragazzi cambiate canale perché è anche incompetente io ho dovuto purtroppo ascoltare le cose per ve lo dico per le denunce che dovevo fare ho ascoltato è incompetente cioè ha proprio aneddoti sbagliati nozioni sbagliate non può parlare di elementi di criminalistica non sa neanche che cosa era una topsia giudiziaria cioè veramente faceva confusione dell'ABC della criminologia non conosce quello di cui parla molte volte ci becca sulle basi dell'ovvietà ovviamente quello che sappiamo tutti quanti sui serial killer quelle cose che sa anche mio cugino dopo aver visto qualche cosa di crime poi nello specifico invece inventa improvvisa e dà informazioni sbagliate ma effettivamente diciamo che non ci sarebbe nulla di male caglia il microfono chiedo scusa ma il punto è che fa così perfino lì magari c'è anche un secondo fine ma fa così esattamente anche con la sua stessa storia con le sue esperienze lei riferisce delle cose che noi non abbiamo mai detto imputandocene fra le altre e alcune cose non hanno proprio senso magari lo fa per sviare l'attenzione vedasi per esempio la questione del social security number che nessuno le ha mai chiesto di pubblicare salve errore da parte mia fra parentesi ho visto che qualcuno chiedeva è un dato è un dato segreto negli Stati Uniti qualche volta viene utilizzato come password il social security number è composto da tre sezioni le prime due servono per identificare il territorio il terzo per identificare la persona all'interno di quel territorio a livello teorico se hai quel social security number puoi attivare un contratto della luce un'utenza e cose simili ma il punto non è averlo e mostrarlo il punto è che quando fatturi devi naturalmente essere identificabile puoi chiamarla partita IVA puoi chiamarlo quando sei una persona fisica social security number perché negli Stati Uniti quello si usa a determinate condizioni puoi chiamarlo ITIN EIN che sono altri numeri identificativi che si usano negli Stati Uniti a seconda del tipo di impresa che hai ma il fisco in qualunque nazione devi identificarti in modo univoco il punto è che MTEAM questo grandissimo marchio non fa neanche le fatture intestate a MTEAM indica un soggetto diverso che una società che fa capo aiutatemi perché non ricordo mai a una Olivia 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 non mi ricordo Olivia Green che non ricordo mai c'è la ballerina di pole dancer la truccatrice la madre del figlio di Zeppellini non ho il piacere di conoscere non ho il piacere di conoscere quindi non so comunque sia avete mai visto un avvocato un consulente forense o anche un ragioniere un commercialista che vi chiede vi presenta delle fatture intestate a un terzo soggetto vediamo di essere seri però Bugalalla sposta l'attenzione sul social security number che non è un numero che è un numero riservatissimo segreto ok va bene però non è quello il punto spostano sempre l'attenzione c'era poi un'altra domanda ah io gliel'ho chiesto dio mi so cacato eh sì non ti ha mai risposto perché verosimilmente non ce l'ha se vuoi investire qualche centesimo prova a chiedere al comune di Roma il certificato di residenza di Francesca Bucamelli i suoi dati sono li ha pubblicati lei vedrai che risulta residente lì non è iscritta all'aere insomma è strano essere rifugiati avendo una normale residenza in Italia almeno in teoria quanto meno dovrebbe essere cancellata dopo tre anni dalla residenza no? volevo volevo solo dire una cosa avvocato per rispondere sennò poi rimane appesa per rispondere a Giovanni non ci sarebbe nulla di male se lei leggesse dei testi preparati da professionisti ok lei non ha le competenze legge i testi ora almeno almeno che non siano scammati i credits quindi boh il testo è stato scritto a noi non risulta anche perché uno dei motivi almeno quelli raccontati di avvicinamento MTA era per avere la possibilità di avere i faldoni in anticipo in esclusiva bla 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 su casi di casi reali non casi già trattati da chiunque ok perché per carità pure io e l'ho fatto posso mettere a commentare la storia del mostro di Firenze dei processi Pacciani assolutamente perché voglio dire nel frattempo ho passato tanto tempo mi sono letto quello che scrive a Giuttari mi sono andato a vedere questo questo e quell'altro mi sarò fatto una mia idea ci saranno delle teorie che mi convincono di più e di meno però non presenterò mai la cosa dal punto di vista mio perché io sono un fisico al massimo ti posso raccontare un po' di meccanica fine e sul resto a me diverte in questa particolare vicenda anche la capacità di adattamento ad esempio e la scarsa attenzione dei fan a questo punto degli ultras la questione è che ad esempio durante la controprogrammazione pre e durante la live delle Iene la live la trasmissione delle Iene si annunciavano questi due speciali no? chi ha annunciato gli speciali? Bugaralla chi gliel'aveva chiesto? nessuno e lei dice ci saranno due speciali in settimana dopo che effettivamente il servizio è uscito beh magari ha realizzato che non bastavano due giorni o tre giorni o cinque giorni per rispondere quindi dice giustamente dice io mi prendo il mio tempo per rispondere ma l'urgenza usciranno due speciali prossima settimana non gliel'ha messa nessuno al mondo se non Bugaralla stessa e nelle ultime live cosa racconta? dice io gli speciali anzi ha pubblicato anche su youtube io gli speciali li pubblico quando cazzo mi pare a me perché non rispondo a quello che mi chiedono gli altri ma nessuno almeno dei presenti sono certo mi pare anche Gasperini Bruzzo nessuno abbia mai chiesto uno speciale a Bugaralla dicendo assolutamente entro fine mese entro fine mese se no poi non può fare l'esame no sono i suoi follower volevo rispondere a qualcuno che diceva sì ma lei lo dice lei parla della psicologia dei bambini poco fa c'era una certa Barbie che diceva lei copia le puntate di Discovery per carità però quando tu fai l'analisi psicologica all'onestà intellettuale dovrebbe dire farti dire che questa cosa l'hai appresa dallo speciale che c'era lo psicologo tizio che ha fatto quest'analisi perché tu non puoi analizzare la psiche di un bambino e spacciarla per tua cioè quella non è una cosa che si fa ragazzi noi lo facciamo pure no nel senso qualcuno in questi giorni ci ha detto ci ha detto che stiamo cavalcando l'onda perché vogliamo lucrare sulla cosa la cosa fa un po' ridere chi come palle ha esperienza di Twitch sa bene che noi che facciamo Twitch una volta alla settimana per due ore ma manco le spese cioè per pagare manco i soldi per pagare i programmi per fare diciamo Stremiard o altro e su YouTube stessa cosa perché hai levato anche la pubblicità non sapevi come si faceva ho levato anche la pubblicità ho levato pure anche la pubblicità però c'è rimasta questa cosa che era nata con l'Abruzzone per fare un po' di di divulgazione io e Giovanni abbiamo preso in eredità e lunedì sera ci ritroviamo qua molto spesso noi semplicemente diamo il nostro punto di vista partendo da un'analisi del caso fatta da un genetista criminologo criminalista che è Giovanni Langella che ha studiato per queste cose e io che sono un umilissimo mi raccomando avvocato con gli almelli io sono un umilissimo praticante camminerò con un cartello scritto qui così diciamo dopo l'esposto non voglio diciamo preoccuparmi che sta studiando che sta studiando la settimana prossima ho anche gli esami per il master e sto facendo diciamo un tirocinio ormai attivissimo anche con la dottoressa Bruzzone e l'avvocato Gasperini però io non sono una psicologa quindi quando magari ci avventuriamo e cerchiamo di discutere noi parliamo dalle notizie che molto spesso ci riferiscono anche le persone che commentano in chat e appunto e quando c'è da fare un'analisi approfondita invitiamo la dottoressa Perli o qualcun altro perché comunque o viene proprio Roberta o viene proprio Roberta perché se si deve parlare di un'analisi psicologica è giusto che noi non per quanto abbiamo appassionati non lo non lo possiamo fare e cerchiamo sempre comunque di dare un giudizio screvo da condizionamenti del caso e cerchiamo di calarci sempre nella parte sia della persona che è vittima sia della persona accusata per garantire quel contraddittorio che ancora diciamo dovrebbe portare le persone in tribunale perché quasi sempre ci occupiamo di casi abbastanza diciamo conosciuti quando ad esempio abbiamo parlato del caso di Bossetti e noi abbiamo l'abbiamo fatto con Laura con Marinaro che ha seguito tutto il processo e che adesso ha fatto un libro dico una fonte molto autorevole noi ovviamente siamo per la diciamo colpevolezza di Bossetti lo diciamo sempre stessa cosa con Erba ci siamo basati siamo partiti dalle carte sia quelle giudiziarie sia quelle che oggi diciamo hanno una parte di quelle che sono servite per fare la richiesta di riesame e abbiamo espresso le nostre perplessità senza comunque prendere posizione ad esempio io riconosco che ci sono delle cose che non vanno bene però tre gradi di giudizio dicono una cosa io aspetto diciamo non sto lì a dire eh no sono innocenti anche perché insomma io credo che in casi come questi insomma bisognerebbe prima pensare tu ci sei stato no giovedì ad esempio faremo un'altra puntata casualmente perché lunedì non sarà mai possibile farla sulla Madonnina di Trevignano ma per parlare dell'aspetto psicologico del caso abbiamo invitato la dottoressa Papa che sarà con noi perché l'altro giorno ci è venuto il dubbio ma perché è nata questa cosa perché Giovanni sta studiando il fenomeno scientifico da scientifico e la dottoressa l'altro giorno era molto formata sulle sette e quindi insomma sarà una cosa divertente però sto preparando un dossier proprio da fra scienze fede come le scienze forensi in qualche caso hanno contribuito un attimino a dare delle risposte che vanno diciamo al di là della conoscenza umana le madonnine che piangono e quant'altro e quindi faremo un diretto anche su questo in psicologia ci sono tantissime persone che si avventurano sul web a parlare di cose che non gli competono ad esempio la diva parla della sua del suo problema della sua vita da narcisista e parla del tema ma nessuno pensa che sia una psicologa perché lei te lo dice e credo che questo dovrebbe essere un'està intellettuale che dovrebbe contraddistinguere tutti non soltanto diciamo la bocca ma perdonatemi c'è anche un problema di metodo quando la diva del tubo parla di questioni psicologiche fa dei riferimenti precisi quando la dottoressa Bruzzone parla di questioni relative a psicologiche e psichiatriche spesso e volentieri fa riferimento al DSM quinto cioè al manuale diagnostico statistico trattamentale che viene utilizzato effettivamente in ambito psichiatrico quando ne parla per esempio Bugalalla Bugamelli non è che ne parla con condizioni di causa fa una chiacchierata è diversa la situazione fa anche delle battute che per carità le faccio anch'io ma manca tutto il discorso scientifico dietro viene proprio ridotto il true crime a una a un raccontino a una barzelletta è la stessa differenza che c'è fra un documentario di Discovery e una puntata di La pallottola spuntata un vecchio serial degli anni 70 fantastico per dire la tutta eh sì 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 demenziale e qualcuno ci scrive che questa deriva diciamo complottista ragionellaria perché lei nell'anima è sempre stata complottista quindi ha trovato diciamo però queste sono speculazioni ma no perché è così carino facciamo tutti parte di una grande organizzazione criminale che gestisce il mondo dai almeno mi sento parte di un progetto più grande ma tu ridi palle ma guarda ma sì che rido ma che devo fare semmai questi semmai questi speciali verranno diciamo alla luce poi perdonatemi c'è una nuova moda parlerò quando la magistratura avrà fatto il suo corso ora indubbiamente ci può essere qualche dettaglio che puoi e devi tenere per te ma per quale motivo non mi puoi dire perché M Team non deve per fatturare deve appoggiarsi a Olivia Green a una società di una spogliare di sta truccatrice eccetera oppure per quale motivo un tuo esperto consiglia di acquistare foto satellitari non ci vuole tantissimo insomma oppure qual è il tuo ruolo su M Team a meno che tu non si è indagata e corri il rischio di autoincriminarti una risposta chiara me la potresti anche dare io in realtà apprezzo tantissimo che loro sono molto recettivi su non le critiche ma le contestazioni perché poi riadattano ad esempio quando l'avvocato Catania nel suo video dice ma queste foto che erano le satellite dell'ESA sono reperibili anche non a pagamento se lo scopo è quello giusto e numero uno numero due se tu sai che quella foto è la svolta per il caso su cui stai lavorando ma perché non l'acquisisci da solo e poi nel caso di risarcire perché se chiudi il caso con quella foto o comunque hai una grande svolta hai tutto un interesse ad acquistarla ho tempo due giorni che succede succede che M Team acquisirà quell'immagine satellitare e la metterà a disposizione degli inquirelli ma guarda ma non c'è bisogno del satellite non l'ho vista con l'immagine satellitare ma che si aspetta scusate poi anche se tu ti rendi conto che quella immagine satellitare c'è e può essere usata perché ti dà tutti i dati che la Catania ci ha fatto vedere puoi tranquillamente chiedere alla procura che venga acquisita mica ti può dire di no perché sono spese che fa lo Stato soprattutto per questo tra l'altro credo esista una norma per cui le istituzioni europee fra cui risulta rientra anche l'ESA hanno il dovere di mettere gratuitamente a disposizione certi elementi quando si fanno forse intercettazioni telefoniche vengono pagate no no telefoniche dipende credo credo vado a memoria credo che dipenda da Stato a Stato non so se l'Europa ha un regolamento comune ma tema intercettazioni telefoniche è molto antico no no però chiedo scusa per le intercettazioni sì possono farsi pagare ma per fornire i tabulati no quando la procura chiede i tabulati a team piuttosto che team senza la E piuttosto che Vodafone eccetera non credo che possa farsi pagare quindi non so come funziona sulle celle nel senso le cellette per capire da dove è partito il traffico delle celle dovrebbe essere fornito gratuitamente alla procura non è una non c'è alcuna alcun extra mentre invece sulle intercettazioni però sostanzialmente perché devi far pagare al cliente centinaia o migliaia di euro quando può avere tutto gratis bisogna mangiare avvocato lo so ma tra l'altro poi lì si entra nel non c'è la certezza matematica perché è un'affermazione della sorella nel caso Pozzi c'è la sorella che dice che M.T. mi aveva chiesto una stomma spropositata per delle foto che ti porti a casa con 300 euro per cui va bene farci un minimo di ricarico però insomma passare da 300 euro a qualche migliaio di euro mi sembra eccessivo quindi vediamo un po' tutte queste domande sono domande scientifiche quindi puoi risponderne anche al di fuori di un processo penale ecco esatto ragazzi io volevo fare un appello se qui ci sono diciamo i follower della Buga anche se lei è live e quindi credo di no però magari qualcuno viene a guardare si sta diciamo diffondendo molta preoccupazione per la sparizione del suo gatto e se lo chiediamo noi sicuramente diciamo non verrà se magari le chiedete di fare anche una storia su Instagram e farvi vedere questo gatto se è ancora vivo perché secondo me non siamo riusciti a fare arrestare zeppellini dall'Array dal FBI dall'immigration ma se qualche animalista si incazza potrebbe essere il momento di svolta quindi lì te le dimostrare sto gatto che vedo di seguire il filo però non sono non sono il gatto eh no perché lei aveva un gatto bellissimo che da un po' è sparito e lei ovviamente aduce le sue scuse come sempre diciamo molto fantasiose e insomma questo gatto non si vede più e allora molti animalisti molti amanti dei gatti che la seguono o la seguivano sono vedi anche già in chat lo stanno scrivendo sono molto preoccupati e quindi basterebbe dico voi andate lì ma ci fai una storia su Instagram e ci fai vedere il gatto ancora vivo non saperne leggere né scrivere io so per certo che i gatti sono molto territoriali e non gradiscono i trasferimenti esatto però se è ancora lì il gatto lo vivo no no chiedetemi solo del gatto di Schrodinger io di questo no io diciamo no non penso al gatto però vedevo che si chiedeva quindi insomma vabbè se fosse a Vicenza ci potremmo preoccupare ah è vero non posso ridere se non dicono che sono una cattiva in realtà gran parte dell'Italia nel dopoguerra però ragazzi questa cosa della casa hanno solo cambiato ambientazione la casa se l'è comprata quindi stanno ancora là non è che è tanto semplice e non è neanche tanto semplice che scappino perché come ho già detto in altri live non è questo genio il signor Zeppellini quindi non è per lui facile è tornato in una città dove era già stato dove aveva la sua gancia dove poteva vivere in maniera discreta e la casa se l'è comprata là con i soldi che c'aveva non è che oggi domani vendi la casa e ti sposti in un'altra parte con i documenti falsi cioè ritrovare un dottore qualcuno che comunque sia compiacente insomma non è così diciamo facile spostarsi e poi lui è sempre diciamo sono passati nelle fognature tipo tartaruga ninja ecco perché adesso senti i rumori tipo dei tombini le macchine che passano su perché sono tipo rinchiusi come i ratti di fogna e quindi senti per quale motivo non può tornare in Italia beh è molto semplice se si trova negli Stati Uniti da irregolare appena lo identificano in un aeroporto in Italia lo fanno tornare ma poi non può più rientrare negli USA per un bel po' e la stessa cosa vale anche per Bukalala ripetiamo a grandione sto per diventare il Joker perdonatemi perché dice che ultimamente no al massimo posso diventare due facce anche lui era procuratore era avvocato ecco eh Harvey Dent 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 o Dent Dent Harvey Dent potrebbe essere no non li odio mi fanno schifo per quello che fanno sono adesso due schifusi cioè non si fanno scrupoli ad approfittare le persone non si fanno scrupoli di inventarsi storie su di noi qui non è proprio odio è proprio schifo perché non riesco a capire come si possa fare tutto ciò addirittura l'ultima che mi è giunta è che nella live è stata chiamata non lo so è venuta la madre di Francesca e una cosa del genere forse lei ne ha parlato io lo trovo veramente aver toccato proprio il fondo del fondo cioè aver manipolato anche questa signora che adesso dice di sapere effettivamente che cosa c'è dietro ragazzi ma che cazzo ci deve stare tra noi ma ci avete visti ma secondo voi se facessimo parte della loggia massonica stavamo qua così a dare spiegazioni quant'altro ma pure loro d'altro canto se fosse tutto il suo team stavano sopra Twitch e Youtube a fassere se robe per piacere poi tra l'altro tra l'altro qui si può inserire anche un discorso sulle dinamiche settarie non è detto che siano una setta però certe dinamiche ci assomigliano perché possiamo fare anche tutto il discorso relativo alla fidelizzazione alla disconnessione al fatto che per esempio come nelle sette è assolutamente vietato guardare del materiale non approvato dal fuffaguro di turno cioè ci sono queste dinamiche che sono in comune con una setta non ti rendono una setta perché chiaramente sei liberissimo di girare dove vuoi fare quello che vuoi ma a livello psicologico le dinamiche sono in parte identiche c'è anche la questione relativa sui genitori se ti trovi perché per carità se tuo figlio tuo cugino che guarda la Bugamelli la sera non è un grosso problema ma i genitori della Bugamelli in teoria come potrebbero gestire la situazione perché c'è la figlia che apparentemente dalla notte alla mattina ha deciso di stare negli Stati Uniti non perché gli piacciono e perché ha un progetto ma perché è perseguitata o perlomeno questa è la versione ufficiale giusto? direi che è un'anomalia ecco poi parla di persone che attentano alla vita sua e dei suoi genitori se non vado errato non so ci sono abbiamo già detto in altre occasioni ma anche per esperienza diretta io attualmente sono di nuovo bannato dalla Bugamelli ricordiamo il mio storico io non avevo neanche il follow metto il follow aspetto i miei 10 minuti faccio una domanda anche in maniera educata chiedo come mai perché all'epoca non lo sapevo poi è stato detto nelle live di Crime Doors non sapevo perché il video non fosse accessibile uno dei video caricati su YouTube non fosse accessibile in Italia ok mi chiedevo di perché quindi pongo quella domanda vengo bannato successivamente comunque anzi ero già comparso credo in live dal Cerbero quindi dico ma magari per quello mando richiesta di sban che mi viene approvata tipo una settimana dopo e ieri sera io provo a guardare da spettatore la live di Bugalalla e scopro di essere nuovamente bannato e la richiesta di sban questa volta non è andata a buon fine anche qui neanche ho scritto un messaggio tra lo sban e quest'altro ban e quindi mi viene da pensare ma perché io sono una persona tendenzialmente in mala fede quando dicevo ma forse sperano che sbannandomi io vada lì in chat a scrivere chissà che cosa così da dire guardate Palle Uomo quanto è tossico e cattivo e io aspetto il momento in cui diranno ecco questo è un assist però ve lo smungo guarda questi che fanno le live con uno che si chiama Palle Uomo e là io riderò tantissimo sì 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 ma la mia domanda era relativa a se ci credono ok ci credono quindi il problema non c'è ma se si rendono conto che c'è un problema con la figlia in queste condizioni quale potrebbe essere la loro condotta migliore perché se prendono di petto la cosa la figlia potrebbe anche non crederci se viceversa cercassero di assecondare perché è un problema che c'è anche nelle sette potrei citare per esempio Scientology e altre ma è una dinamica molto nota se non dai le sette della memoria in Italia le sette della memoria non so se le conosci avvocato sì 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 per cui in quei casi c'è anche la pratica della disconnessione se non segui tutti i precetti eccetera viene ordinata la disconnessione dei tuoi confronti poi sono convinto che in questo caso la Bugamelli abbia un suo tornaconto in M-Team per cui sarei più propenso a credere che sia complice fra virgolette rispetto a vittima però le dinamiche spesso sono complesse considerate però che io ho sentito quel pezzo di telefonata l'impressione che ho avuto è comunque di di due persone che non sono abituate a sentirsi con regolarità cioè ragazzi considerate che la live è alle tre io penso che molti di voi se se lo sono ricordati hanno aperto gli occhi hanno fatto gli auguri alla mamma non hanno aspettato le tre per telefonarvi live e fare diciamo questa cosa e anche lì sembravano due persone che non non si sentissero in maniera assidua per carità abitita all'altro capo del mondo e sicuramente ci sono fuso orario una serie di circostanze lavoro altro non è proprio semplicissimo però ecco mi ha dato l'impressione di quel rapporto non molto stretto e molto intimo come in generale magari si può avere con una madre quando hai ancora 30 anni cioè io ce l'ho ancora e ne ho 10 anni in più insomma quindi non lo so ecco vabbè però dal punto di vista diciamo del content dello spettacolo ci sta che magari te glieli fatti sei ore prima gli auguri alla mamma e glieli rifai in live beh allora è un'attrice anche sua madre perché era molto sorpresa cioè sembrava che non la sentisse da una settimana per come si è non lo so ripeto io ieri molto triste per essere stato bannato non ho guardato la live però il punto è questo che se la signora crede veramente alla storia della gente della CIA diciamo non dobbiamo allontanarci cioè ci credo che ci creda anche la Bugamelli perché magari diciamo siamo vengono da una famiglia di complottisti ecco perché diciamo la verità verrà fuori che altra verità ci vuoi mettere torno subito scusate vai vai poi la missione in Ucraina anche Agatha l'ha avuta questa cosa poi vabbè c'è la questione dell'incidente però anche qui si sta spostando il focus dal problema di M-Team cioè sull'attività di M-Team e sulle frodi alle questioni personali poi certamente la questione dell'incidente sì incidente no in un certo contesto può e ha certamente rilevanza mettiamo che qualcuno voglia recuperare i danni subiti e avere l'indennizio risarcimento chiaro che se si dovesse appurare che Zeppellini ha ceduto le sue sostanze alla Bugamelli per acquistare una casa con mille difficoltà negli Stati Uniti di la poi intercettare la cosa ha un senso però sinceramente io personalmente riterrei che la priorità sia un'altra a concentrarsi sulle truffe sui metodi che portano a M-Team ad approfittarsi di gente fragile ecco ma in realtà non è che devi sempre sostenere i figli se il figlio vuole buttarsi da una rupe senza corda senza paracadute non è che proprio proprio devi sostenerlo ecco a meno che non sia un figlio di genere dipende il problema è riuscire a esercitare la giusta pressione per farlo ragionare nel caso in cui sia vittima di inganno se invece è semplicemente complice la situazione è decisamente più complicata forse forse ti sarà impegnato ma qualcosa nell'educazione del figlio non è andata per il verso giusto perché in teoria il compito dei genitori è preparare i figli alla vita e prepararli dovrebbe prevedere anche dargli certi valori ecco non solo perché sono valori giusti ma anche perché permettono effettivamente di vivere meglio si è frizzata Monica? no forse si allora detto questo è bravissimo a stare ferma detto questo che si sfrizza che cosa stava facendo a saper fumare ma non lo so noi chiuderemo qui perché altrimenti veramente è diventato un sequestro e proprio anche sull'ondata dei casi torniamo ad occuparci finalmente un attimino di qualcosa di più crime ecco qua sparita Monica quindi abbiamo pensato di portare la vicenda di Mario Biondo e raccontarla come va raccontata quindi il ritorniamo giovedì con la vicenda della Madonna di Trevignano sperando di non trovarci altre persone che ci vogliono poi a rugo perché diciamo che già siamo pieni quindi poi ci mancano solo gli adepti della Madonna di Trevignano e poi il puzzle è completo ok quindi tratteremo un attimino quel caso dal punto di vista scientifico e poi cominciamo a parlarvi di uno dei casi che poi è stato trattato anche dalle METIM e ve lo racconteremo ripeto e lì avvocato Catania non ti invitiamo che almeno ci puoi difendere non ti coinvolgiamo che almeno ci difendi tu ok ci provo io sono Roi vi serve un'inviata ah vuoi andare a vedere la Madonnina facciamo il collegamento la Madonna di Trevignano qual è quella che moltiplicava le pizze i gnocchi le pizze sì ma è interessante perché Giovanni che diceva la Madonna aspette un attimo che sto facendo i piatti tu aspettate un attimo e la Madonna aspettava con santa pazienza santa pazienza va bene noi ringraziamo grazie tanto grazie a voi per l'invito non alimentate la mia mania di protagonismo e mi raccomando no ma per noi è stato un piacere dopo su che canale sei non lo so probabilmente qui dove vai sul tuo sei ospite io mi auto invito sul mio canale ogni tanto gatta te la raccontiamo noi ti raccontiamo anche il motivo per cui diciamo c'è questo fermento per questo documentario Netflix ti spieghiamo insomma come come entrato in me team e tutto quello che è successo è impegnato mi pare no palle c'ha una palle donna che non è quella carenciata no anzi io sono molto molto furioso con chiunque abbia scelto palle uova perché poi vengono a dire Feli vedi si fa i profili esatto va bene va bene ragazzi tra l'altro io voglio anche ribadire per chi prima è stato fatto oltre al wide al wide al ride di wide half c'è stato il ride di Fabio e non c'era alcuna molestia ecco ribadiamolo no no ma io ero ironica l'avevo capito sì no 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 mi ha anche fatto i complimenti quindi io diciamo ce l'ho già nel cuore che non è giallo i cuori gialli sono un altro per favore grazie ragazzi i cuori gialli non ne voglio vedere per tutta la vita ci sono bastati quelli di quest'anno e mezzo i cuori giallo no russo basta che finché il fegato e gli occhi non sono gialli siamo a forza sì va bene ragazzi grazie ma andiamo a letto Catania che non ce l'ha più dorma avvocato avvocato dorma e poi lo diciamo solo io sono sono cotto avvocato gli hanno chiesto poi un video così su richiesta non so se può accontentare proprio sul social security number o questa questione del ne ho accennato un pochino nel mio ultimo video su bugalalla ma il minimo sì posso farlo in via più breve ecco ma il problema non è dire il social security number il problema lì è averlo non averlo perché è l'equivalente è il numero identificativo univoco per le persone fisiche in alcuni casi anche per l'IRS che è la sostanzialmente è il fisco statunitense che detto fra parentesi arriva dove normalmente la polizia non arriva ricordiamo tutti al capone non è stato firmato dai poliziotti non è stato firmato addirittura è stato fermato dall'IRS per cui sostanzialmente la domanda è sempre quella tu sei negli Stati Uniti ma non è che ci devi mostrare il social security number anche perché è relativamente riservato e non abbiamo modo di verificarlo però intendo dire quando MTM fa le fatture mi devi spiegare perché non ha una partita IVA o meglio deve utilizzare come destinatario della fattura una società che non è MTM non è riconducibile a John Peschiera John Benamie e ad altri cioè è questo il senso della partita IVA ecco poi se serve il minimo su come fatturare negli Stati Uniti sono milanese in adozione mi arrangio però insomma visto visto che lo scopo di noi tutti e farsi conoscere no ovviamente ricordiamo che l'avvocato Catania ha anche un nuovo canale quindi chi non seguisse anche il secondo canale fino a anche il primo andasse a mettere il follo ah grazie questo qua questo c'è da studiare Catania faccio un video sulla missione fasulla di M in Ucraina come ricordo era una delle prime volte che vedevo Bugalalla quando c'era la missione segreta di questo tizio che andava in Ucraina a prelevare gli infanti dall'ospedale per poterli recapitare a domicilio madonna avevano coinvolto anche un parlamentare se non erro sì quella questione l'hanno tolta subito di mezzo perché si sono resi proprio conto di aver cagato proprio fuori dal vaso così perché era difficile da gestire quella roba portata lì ma il nome in codice dell'operazione era c'era la tronaca di questo supposto militare che andava a prendere i neonati e le mamme li portava in salvo fuori Kiev durante i bombardamenti era una cosa io ci scherzo su però francamente avvocato mi rassicuri il nome in codice dell'operazione era Cicogna sì o no quanto ricordo io sì trovate i video ragazzi quelli sono sulla pagina di Mteam ma io questa cosa me l'ero persa ragazzi andate recuperate vedrò di farla in costume con un uniforme militare da Berretto sì hanno fatto tutto il telefono però vedete i video su quello no no però dicono che l'operazione era Giulia ecco questo è un esempio di scarsa creatività operazione Cicogna e tra l'altro lo dico qua così se qualcuno glielo dice magari mi viene a cercare e glielo faccio sentire no e al telefono Zeppi si vantava pure una parte oscurata della telefonata e di aver risolto un sacco di problemi per il senatore Doria quindi se qualcuno lo conosce o ci sente insomma sarei anche felice di farlo sapere magari potrebbe aiutare anche la Samp Doria che naviga in cattive acque vabbè ci ritorneremo quindi su questo ce l'andiamo un attimino a rivedere perché tanto che era una roba incredibile non mi ricordo solo per sommi capi la cretinacera che portarono fuori però eravamo concentrati su altro che ce lo andremo a rivedere ma riguardandolo adesso con tutto quello che è venuto dopo se non ci sarà Davide perché veramente non si è tornato quindi andatevelo a rivedere quello mi sa che non è stato abbattuto vi salutiamo ci vediamo giovedì e lunedì grazie ciao a tutti grazie mille ciao ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.